Hey! State per vedere la puntata numero 4 del Breaking Italy Podcast, che significa che stiamo per passare poco più di due ore assieme a un ospite che ha un sacco di cose interessanti da dire. Dario Bressanini, docente universitario, divulgatore scientifico e amichevole chimico di quartiere, che potreste appunto conoscere per uno dei molti libri che ha scritto, per le ospitate in televisione, ma soprattutto per i video di divulgazione su YouTube o le storie su Instagram, che apparentemente sono un sistema che può essere utilizzato anche per questo fine. Con Dario abbiamo parlato di un sacco di cose, e sì, gli ho chiesto di Greta Thunberg e delle sue recenti affermazioni, un po' criticate da alcuni, sia sull'argomento che sul modo più efficace di parlare di cambiamenti climatici, ma non abbiamo parlato solo di quello, non solo di Greta. Dirà un sacco di cose interessanti sul sistema dei media italiano, ad esempio sia televisivo che editoriale, su quanto poco si guadagni scrivendo libri e sulla vera ragione che porta la gente a scriverli, soprattutto in Italia. Al solito, prima di iniziare, un ringraziamento ai supporters del Breaking Italy Club, che sostengono finanziariamente il progetto, si sono impegnati ad aiutarmi nella scelta dell'ospite e mi hanno anche dato una mano con le domande. Voleste saperne di più? Entrare nel programma? Lo sapete, breakingitaly.club, e potreste accedere alle varie ricompense che offriamo ai membri. Un ringraziamento va inoltre allo sponsor di questa puntata, che è NordVPN. Un VPN è un servizio legale che permette di anonimizzare la propria navigazione online, per qualsiasi ragione vogliate farlo. Magari non volete lasciare tracce, o volete accedere a un sito che permetta la navigazione solo da paesi specifici, escludendo l'Italia, o semplicemente avete l'ansia quando fate acquisti online, o accedete a wifi pubblici, che spesso non sono sicuri. Ecco, NordVPN è a parer mio il migliore e più semplice servizio, che in un paio di click permette di effettuare l'accesso e scegliere da che paese volete passare. È facilissimo, molto intuitivo di nuovo, e se usate il link in descrizione o inserite la parola breaking nel checkout, vi costa pochissimo, poco più di 2 euro al mese. 2 euro. Se scegliete il piano triennale, infatti, e usate il codice breaking, siete a posto per i successivi 3 anni e non ci pensate più. Ogni volta che vi serve, lo aprite anche da smartphone, e in pochi secondi siete a posto. C'è un sistema di soddisfatti e rimborsati, comunque, quindi potete provarlo in tutta tranquillità e realizzare che non vi stia lanciando nessun bidone. E avete un ulteriore mese gratuito. Bene, siamo pronti. Prendetevi qualcosa da bere, anche il mirto va benissimo, e mettetevi comodi. Sarà interessante. Dario Bressanini, grazie per essere qui. Grazie a te per l'invito. Sai già che dobbiamo avere il mirto all'inizio. Assolutamente. Ok, quindi sei preparato. Sì, sì. Fuori da... Cioè, prima di iniziare, mi chiedevi quanto io mi prepari le puntate, no? Mi faceva un po' sorridere, perché io, come vedo, ho tutto pronto, ma devo iniziare con una cosa che non era pronta. Non era prevista. Che è l'articolo che tu hai scritto su Gretatumber. Ah. Quando ne parliamo. Vediamoci il mirto. Io comunque lo sorseggio e vedo che molti se lo buttano giù come se fosse... Come preferisci tu. Sì, sì, io adoro il mirto. Anche quello bianco. Anche quello bianco. Che è molto più... Dalle mie parti assolutamente non si trova. Eh sì, perché è molto raro. Infatti l'ho scoperto una volta che ero in vacanza qui in Sardegna. Ho detto, cavoli, è molto aromatico. Sì, qui è un po'... Allora, devo dire la verità, chi beve il mirto bianco, negli ambienti maccio, è un po' visto... Ah, è un po' una roba da fighetti. Sì, è un po' una roba... Esatto, sì. Ho capito, ho capito. Però è buono, anche a me piace. Sì, sì, sì. Ah, lo dicevi. Greta Thunberg. Ho letto il tuo articolo e ho visto che hai commentato il mio video. Io non ti ho risposto al mio video su Greta Thunberg. Sì, io come... Allora, in realtà, questo è un articolo che mi è venuto di getto, che non era in programma. E l'ho scritto dopo aver letto, tra le altre cose, dopo aver letto anche... Dopo aver visto il tuo video e dopo aver letto un po' i commenti, ho commentato sotto e niente. Quindi mi è venuta questa voglia di scrivere un po', mettere in fila un po' i miei pensieri per tutta la faccenda. E quindi l'ho scritto così di getto. Anche quello non era preparato. Ok, sì, ma infatti è tutto... Questa questione di Greta Thunberg per me è incredibile che sia diventata così tanto di battuta. Cioè, mi aspettavo un rumore che avesse, diciamo, un ordine di grandezza sensato per quella che in effetti è una ragazza che manifesta e trascina dietro di sé molti ragazzi che comunque sono tutti molto giovani. E invece è una cosa che viene discussa dai grandi giornali, dai grandi giornalisti, negli editoriali dei tutti i giornali. Insomma, è una cosa un po'... Ho trovato interessante che tu dici due cose che mi sono sembrate quasi, non dico in contrasto, però dissonanti. La prima è che tu non ti senti in colpa. È che è la fine dell'articolo, no? Sì. Vuoi spiegare a chi magari non ha letto l'articolo? Allora, l'articolo che possono andare a cercare sul blog, il blog Scienze in Cucina, sulla rivista Le Scienze, parte da un episodio personale dopo che avevo letto qualche tempo fa un articolo scientifico che faceva i calcoli di quanto noi singolarmente, come persone, quindi non agendo a livello collettivo, possiamo fare per ridurre la nostra impronta carbonica. Perché ci sono ovviamente sia le scelte collettive, rivoluzioniamo il sistema industriale, mettiamo i parchi eolici, le centrali nucleari, in Italia non si può fare, ma comunque queste sono ovviamente scelte collettive che ovviamente devono passare attraverso la politica, attraverso tutta una serie di… Il sistema decisionale. Ecco, insomma, quindi sono cose lunghe, ci si mette decenni. Poi ci sono anche delle scelte individuali, tipo la scelta di non usare la macchina, la scelta di non consumare più certi cibi e così via, oppure appunto la scelta di non andare in aeroplano. Questo articolo che avevo letto, l'ho trovato interessante perché mi ha fatto pensare, spiegava che tra le varie cose che impattano molto di più a livello del singolo, c'erano i voli aerei. E diceva una cosa che io, un dato che francamente non sapevo, che un singolo volo aereo praticamente ti fa quasi esaurire la tua quota, diciamo, di emissioni di CO2 che poi, in teoria, potresti permetterti se dovessimo mantenerci sotto il livello dei due gradi superiori. E quindi ho pensato, stavo appunto per venire, perché l'ho scritto ieri, l'articolo l'ho scritto ieri sera e stamattina l'ho finito. E quindi dovevo prendere l'aereo per venire qui a Cagliari. Nell'ultimo anno avevo preso altre due volte l'aereo per andare abbastanza vicino e un anno fa, esattamente un anno fa, avevo preso l'aereo per divertirmi. Ero andato a New York per... ci ho attaccato delle cose di lavoro, ma sono andato sostanzialmente per sentire l'ultimo concetto di Paul Simon. E quindi da lì è nato tutto il mio ragionamento e siccome c'è molta questa faccenda della colpa, del sentirsi in colpa e a volte anche di far sentire in colpa gli altri che non seguono i tuoi stessi comportamenti che tu ritieni come virtuosi. E questo è uno dei motivi per cui c'è questo casino sui giornali e scatena tutta questa bagarre. È chiarissimo, per esempio, quando si parla di alimentazione. e dice ah, tu mangi la carne, io invece no, io vado col motorino, tu invece vai col SUV. E così, questo genere. E però io, appunto, io non mi sono sentito in colpa di essere andato per divertirmi a New York. Io uso la macchina perché non potrei farne a meno. Io non vivo in una grande città, vivo in una piccola città che non ha neanche il treno per cui sono proprio obbligato. Obbligato dal... da come è strutturata la nostra società. Quindi, alla fine, la riflessione che facevo era che, è vero, noi possiamo fare alcune cose limitate a livello di singoli ma il grosso noi potremmo e lo potremmo fare solamente a livello collettivo. E quindi non ha senso, non ha molto senso sentirsi in colpa perché vado in aereo a divertirmi. No, questa è l'aspirazione di tutti. cioè divertirsi fa parte del vivere. E quindi più che colpevolizzare le persone ovvio che poi appunto ci sono certe decisioni collettive anche sul volo in aereo che si possono prendere collettivamente, no? Ma non sono io che singolarmente decido vabbè faccio il sacrificio e non vado a sentirmi il concerto non vengo in vacanza in Sardegna, no? Non ha senso che io lo faccia a livello singolo. Ci deve essere prima una discussione collettiva in cui deve essere chiaro ognuno di noi come cosa c'ha da perderci cosa c'ha da guadagnarsi in futuro nel miglioramento delle condizioni del pianeta per impianarsi figli e fare una sorta di contrattazione quindi io ci perdo io ma ci perdiamo un po' tutti e quindi questa eccessiva enfasi su quello che noi come singoli possiamo fare anche se poi dati alla mano non servirebbe a tanto perché è come rallentare un pochettino un treno che sta andando contro il precipizio cioè ci vai un po' più lentamente ma poi cadere nel precipizio perché poi come al solito come faccio nei miei articoli metto un po' di diciamo aspetti personali e poi un po' di numeri per cui guardavo che le emissioni che un europeo medio di CO2 che poi non è solo la CO2 ma insomma parliamo di CO2 emette ogni anno sono quasi 7 tonnellate all'anno il target che come media mondiale dovremmo tenere e dovremmo raggiungere nel 2050 è di 2,1 quindi noi siamo tre volte tanto quindi è vero se io non avessi preso il mio aereo e non usassi la macchina se potessi non usare la macchina potrei fare qualche cosa ma saremmo comunque al di sopra perché ci sono tutta una serie di consumi energetici che non dipendono dal singolo ma dipendono dalla società e quindi il succo dell'articolo era va bene Greta anzi benissimo che ha fatto sì che certi temi siano ritornati sulla discussione pubblica dato che dopo che anni non se li filiava nessuno ecco va benissimo però vedo che ci si sta focalizzando troppo su Greta sulla persona sul perché fa questo sul perché non fa questo quest'altro e si ci si è incagliati poi c'è chi lo fa a posto ovviamente perché non crede che esista il cambiamento climatico e così via però ci si è incagliati su questo e non invece sul passaggio che è necessario cioè quello di aprire una discussione pubblica su che cosa come società dobbiamo fare contrattandola stato per stato noi paesi ricchi con quelli un po' meno ricchi con quelli che vogliono diventare un po' meno poveri e così via è solamente a quel punto che le persone possono forse in futuro accettare delle riduzioni drastiche dei propri consumi energetici ma sai perché io ti dicevo che vedo due elementi in dissonanza perché se tu sei arrivato dove volevo portarti cioè che trovi che comunque l'azione di Greta l'azione dimostrativa di Greta abbia portato attenzione su un tema che andava spegnendosi l'hai scritto anche nell'articolo era proprio morto perché se ne era parlato l'ultima fiammata che avevo visto era quando ormai è stato dichiarato morto il protocollo di Chioto quindi insomma 2005 2007 ma poi il protocollo di Chioto risale nel 1997 poi è stato firmato ma non da tutti è entrato in vigore ma sostanzialmente non ha avuto granché effetto negli anni successivi e poi basta poi è sparito io come racconto nell'articolo c'erano tanti colleghi divulgatori amici giornalisti scientifici che nel corso degli anni mi dicevano io vorrei parlare di ambiente vorrei parlare di riscaldamento globale ma non se lo fida nessuno io lo propongo al mio direttore il mio direttore dice non te lo pubblico perché non lo leggono e appunto lì la questione e adesso invece è tornato è tornato io trovo che le due cose le sento un po' in dissonanza perché trovo che Greta l'ho già detto nel mio video eccetera sia un eroe sia una figura che porta avanti una battaglia che è più grande di lei ed è più complessa di come lei la mette ora tu mi hai dato un ottimo modo di spiegare questa cosa facciamo un parallelismo con la carne con i vegani c'è stato un momento nei quali i vegani usavano la questione della colpa la questione del tu mangi la carne è colpa tua è tutta colpa tua perché poi le emissioni le mucche eccetera eccetera che a me non piace dare la colpa neanche a me però in quel caso io ero un pochino più restio a prendermi la colpa di questa cosa anche se effettivamente mi rendevo conto che avrei potuto un pochino cambiare la mia alimentazione io l'ho cambiata ok io l'ho ridotto non l'ho diminuito ecco l'ho ridotto anche devo essere sincero per questioni salutistiche non solamente per questioni ambientali perché quello comunque ha anche un effetto se vogliamo più forte nelle decisioni personali però sì l'ho ridotto ecco io non riesco a fare esattamente lo stesso discorso per Greta e per i ragazzi che la circondano perché sono molto giovani e quindi da un vegano adesso non parlo di tutti i vegani ovviamente devo fare il disclaimer sì 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 ho anche amici vegani ho anche amici vegani esatto io ce li ho davvero sì ma chiunque cioè ma infatti ma ce la voglio dire è una cosa molto comune ho un amico biondo certo ma ci mancherebbe altro da loro non posso da loro non accetto un discorso così semplicistico come quello che può fare Greta ora io di Greta apprezzo la battaglia apprezzo la personalmente per tanti aspetti ovviamente non concordo con lei su tanti sul modo bianco e nero di intendere le cose lei stessa lo dice è una questione bianca e nera dobbiamo assolutamente abbattere tutte le missioni non è fattibile come dicevo anch'io molto superficialmente nel video non lo puoi fare così da un punto in bianco perché distruggi economie mandi la gente sì ma non arrivi al punto di distruggire l'economia perché manca il consenso sociale cioè non le fai non siamo in una dittatura grazie al cielo per cui ma il punto è che trovo strano che si attacchi Greta e non si faccia il passo successivo di dire vabbè voi pensate voi giovani voi tu Greta pensi che noi ti abbiamo rubato il futuro vabbè accettiamo la critica anche se è una critica ingiusta in un certo senso e promettiamo che faremo di più e proveremo a fare di più perché io devo ammettere che la questione ambientale per me non è sempre stata così centrale io sono un po' più grande quindi non è sempre stata così centrale sì non buttare la carta per terra eccetera ma adesso mi rendo conto di aver iniziato a modificare il mio comportamento perché mi vergognerei di ammettere certe cose che prima erano normali tipo che cosa più banale i piedi plastica adesso ti vergogneresti di farti vedere nel video col piatto di plastica perché la gente ti dice ah ah oppure sei più attento alle emissioni le cose piccole l'acqua che scorre quando ti lavi i denti le stupidaggini i mozziconi di sigaretta i mozziconi sicolo mi faceva impazzire da ragazzino io i miei genitori erano entrambi dipendenti pubblici e io mi ricordo che entravo nell'ufficio ed era una cosa indecente perché la gente fumava nei corridoi una cosa schifosa trovo proprio un problema di approccio in tal senso io riguardavo Piazza Pulita c'era non Formigli il direttore del giornale San Lusti che diceva Greta è cretina perché ad esempio lei vorrebbe abbattere le emissioni ma deve capire che parlava del ciclo del freddo in Africa tipo quando noi istitueremo il ciclo del freddo in Africa che tipo si non ce l'hanno per trasportare il cibo da una parte all'altra quello inquinamento e io ho trovato veramente superficiale il tipo di attacco perché certo quello è banale ma Greta non ci pensa Greta è nata in una delle nazioni più ricche del pianeta in una situazione personale molto agiata e quindi è ovvio che abbia una sensibilità nei confronti di certe questioni differenti il mio discorso è proprio di prendiamo quello che c'è di buono da quello che lei fa cioè ha sollevato la questione il problema è tornato centrale io smetto di usare i piatti di plastica e poi portiamola avanti ovviamente in un discorso più complesso come quello che potete dire tu purtroppo Greta per tutta una serie di motivi è diventato un personaggio divisivo questo non è un giudizio è un'osservazione poi è chiaro che c'è chi cavalca questa certi giornali certi certi pensatori tra virgolette opinionisti che tra l'altro non penso siano poi così cioè li sopravvalutiamo un po' può essere sì ecco così tasto un po' il polso chiaramente non ha valore statistico alle persone che mi seguono ogni tanto faccio qualche sondaggio così quello che si vede in televisione sui giornali o su twitter è in realtà in gran parte una grande bolla insomma cercherei di non dargli troppo importanza però di fatto si vede che è divisiva rispetto anche alle persone persone normali cioè che non hanno diciamo posti pubblici non sono giornalisti non sono non hanno posti in ministeri o non hanno l'azienda che inquina e così via è un personaggio che è diventato divisivo e questo automaticamente un po' per il modo con cui appunto da adolescente ovviamente tratta certi temi molto rigido come l'oreo io ho raccontato ma sì ma è ovvio però facendo così cioè è inevitabile che scateni purtroppo tutta una discussione che è totalmente inutile su di lei e sul perché faccia delle cose cioè che lei soffra della sindrome di Asperger chi se ne frega no? certamente però è ovvio che ci si attacca a queste cose e quindi l'articolo anche se non credo sia stato molto così non abbiamo avuto chissà quale impatto era anche un invito da parte di chi sa che il riscaldamento globale esiste che non è una balla inventata da qualche da qualche corporazione che ci vuole fare aumentare le tasse a tutti a vantaggio di non si sa bene chi di cercare di andare oltre cioè vedo proprio la trincea no? perché chiaramente alcuni hanno un gioco facile ad attaccare Greta perché le sue idee sono semplicistiche perché le soluzioni non so se sei andato a leggere al di là di quello che dice i vari documenti nei vari siti sono a volte veramente cose banali ma se io rilego un mio tema di quando ero avevo 17 anni erano così ma è ovvio così e quindi viene attaccata per queste cose e ovviamente l'altro schieramento la difende però appunto si crea ovviamente una lotta e non se ne esce perché è lì il discorso che facevano per ottenere certi risultati bisogna che ci sia un cambiamento di prospettiva di consapevolezza e quindi servono dei leader che siano carismatici e non divisivi perché se tu ci pensi cioè non piace ma noi non siamo solamente persone perfettamente razionali noi siamo persone che agiscono anche di impulso per cui ci sono delle persone che non ti piacciono per come si pongono per cui pensa non c'entra niente con l'ambiente ma pensa Renzi quanta parte del suo diciamo del suo declino è stato dovuto non a quello che ha fatto ma come ci sono queste cose che a livello della discussione pubblica contano per cui è un personaggio divisivo e gli adulti il mio appello era agli adulti diciamo lei ci ha fatto rimettere al centro della discussione questo tema e meno male perché la scienza su quella roba lì è chiara inutile che ci siano che mi dicono che ci sono 500 scienziati che mandano la letta 500 scienziati dovrebbero scrivere degli articoli scientifici e li discutiamo poi vai a vedere non l'hanno scritti hanno preso persone va bene insomma sono quegli appelli che intanto al chilo che è facile fare però appunto si dovrebbe dire lasciamo perdere la scienza è chiara grazie Greta grazie a voi ragazzi che avete riportato la discussione a questo punto però vi spieghiamo che sì si deve parlare di soldi perché io ho visto il discorso che ha fatto che ha fatto Greta alle Nazioni Unite quello mi ha per esempio mi ha un po' infastidito per i modi tutta questa enfasi emotiva che posso cioè che posso capire a pelle dici che è infastidito sì 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 a pelle mi ha infastidito cioè non penso che fosse preparato io penso che lei davvero si senta così sembra quasi era quasi sull'oro di piangere arrabbiata più arrabbiosa razionali lo posso benissimo capire poi se lo faccia per qualche motivo se gli viene spontaneo non importa il punto è che io ma tantissimi altri sono stati anche infastiditi a pelle da questa reazione infatti subito dopo prima di scrivere l'articolo e dopo aver visto il tuo video ho fatto un mini sondaggio su Instagram di quelli proprio con le storie perché comunque ho abbastanza persone che mi seguono mi faccio un'idea di come anche se non ha valore statistico perché chi mi segue non è un campione rappresentativo però volevo avere un'idea e quindi ho chiesto ma a pelle cosa ne pensate di Greta non del riscaldamento globale non di tutte le di lei di come persona di come si pone così e ho detto ho fatto quattro risposte era ne penso male ne penso più male che bene ne penso più bene che male ne penso bene e ovviamente la maggior parte come mi aspettavo ha risposto ne penso quella che la risposta che ha vinto diciamo è stata ne penso più bene che male poi c'è ne penso bene c'è una piccola parte ma non insignificante adesso non ricordo l'ho pubblicato i numeri ma forse 4-5% che dice ne penso male e poi forse tipo un 10-15% che dice ne penso più male che bene quindi già da lì vedi che è una cosa abbastanza divisiva però poi vado a leggere i messaggi che mi arrivano perché la gente le persone che mi seguono sono abituata al fatto che io leggo anche praticamente tutti i messaggi che mi arrivano su Instagram è l'unico social che leggo ancora ecco non leggo più sono uscito da Facebook e i messaggi su YouTube a volte non riesco a vederli insomma è un po' un macello quindi quelli su Instagram riesco ancora a vederli la gente lo sa e quindi mi andano una serie di considerazioni tantissimi mi hanno detto guarda io ho votato no oppure ho votato più male che bene io ci credo al sglandamento climatico non è una balla però penso che alcune sue questo suo modo di porsi possa fare più male che bene e quindi mi hanno mi hanno dato che sia controproducente quindi un ragionamento razionale e quindi mi dicono mi dicono ma in tanti mi hanno scritto mi hanno detto quel discorso lì così emotivo che da sembrare quasi preparato ok io sono convinto che non lo fosse ma l'importante ancora una volta è cosa appare è la percezione e quindi e quindi mi sono mi sono resa conto che effettivamente cioè non è vera la così l'immagine che spesso viene data se vai su Twitter per esempio così no ci sono i cattivi che danno contro Greta e i buoni che la difendono e i cattivi che danno contro Greta secondo questa così questa narrazione sono tutti contro l'escaldamento climatico no non è vero qualcuno pensa che sia ora magari non adesso ma magari fra un anno che effettivamente anche degli adulti invece da una parte odiarla e dall'altra parte invece adorarla facciano anche qualcosa cioè che intervengano che che si mettano a dire grazie adesso siccome il pianeta non è solo lo vostro poi in realtà il pianeta siamo noi perché il pianeta va avanti lo stesso e adesso cerchiamo di una volta che c'è una consapevolezza non solo dei giovani ma di tutti che c'è un problema e che non possiamo far finta di niente bisogna parlare di come si fa e bisogna parlare di quattrini è come quando si parla ma quello non lo farà Greta non è il suo ruolo non è il suo ruolo non è il suo ruolo e per questo che dico che finché ci si incaponisce su Greta purtroppo infatti insomma è un po' pessimista il mio articolo alla fine non se ne esce da qui e purtroppo ci potrebbe essere la possibilità che dopo un po' questo fenomeno va a scemare perché se tu ci pensi storicamente certi movimenti che nel momento in cui prendono piede sembrano pensa occupare Wall Street ma io mi ricordo molto prima tutto il movimento di Seattle prima quando c'è stato il no logo c'era il simbolo il libro ci sono questi movimenti che scoppiano molto spesso che nascono dai giovani giustamente però dopo un po' se non si trasformano in qualcosa di propositivo e lì per forza non si può lasciare tutta la faccenda in mano ai giovani perché non è il loro bestiere dopo un po' scemano dopo un po' arriva un'altra cosa un altro fenomeno c'è un'emergenza da qualche altra parte si comincia a mettere la notizia in seconda pagina in terza pagina e poi sparisce è proprio per quello che io invece ho trovato molto a me per dire ho guardato lo stesso video che hai guardato tu con le Nazioni Unite più volte anche a me io cerco di essere molto molto razionale non mi piace molto le emozioni quando le vengono scatenate così sono pericolose perché possono essere usate nel bene e nel male sì assolutamente ma io dico quando io l'ho visto quel video anche a me a pelle non è piaciuto vedere questa ragazzina così arrabbiata eccetera però sono comunque riuscito quasi a perdonarglielo proprio perché mi rendo conto della situazione e inoltre credo io non ho dubbi sul fatto che questa cosa sia positiva perché mi sembra il video dici o tutto 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 manca il modo di essere così divisiva io non lo trovo così problematico proprio perché credo che se non sei divisivo in questo momento non 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 sei efficace nella comunicazione il fatto che lei sia riuscita a smuovere questa situazione di di stasi come l'hai definita tu di totale paralisi sulla questione di totale disinteresse sulla questione secondo me è già stata una cosa positiva poi dipenderà appunto da chi recupererà recupererà questa battaglia è evidente che Greta continuerà a fare le sue battaglie anche da adulta e probabilmente rimarrà sempre in quella zona di estremismo o per un lungo tempo probabilmente che non sarà mai veramente propositivo o mai realisticamente propositivo però trovo che abbia non so abbia un po' sbloccato la situazione anch'io nel fenomeno globale sono assolutamente contento la vedo positivamente banalmente se non ci fosse stata lei in prima pagina in questo momento sui giornali ci sarebbe qualche si discuterebbe degli 8000 partitini nati dal PD non lo so di qualche altra cosa totalmente irrilevante insomma a livello globale per cui banalmente se non ci fosse stata lei e tutti gli altri ragazzi ovviamente poi anche altri che si sono mossi in Argentina e in tanti altri non c'è solo lei ovviamente quindi il giudizio è positivo il mio timore è che focalizzandosi troppo sul personaggio perché è diventato un personaggio focalizzandosi troppo sul personaggio si perde di vista il passaggio i passaggi successivi che sono necessari perché non basta dire abbogliamo le emissioni no? cioè se vuoi in scala diciamo italiana è è la stessa discorso che si può fare quando si devono affrontare temi sulle pensioni sulla sanità quando ci sono da in gioco la vita delle persone e un sacco di risorse che si deve decidere siccome sono limitate dove alloccarce le diamo i giovani le diamo in pensione le diamo e quindi alla fine l'approccio italiano è rimandiamo certo noi abbiamo rimandato un sacco di robe e poi lo vediamo che alla fine i conti vengono insomma vengono lì e ti dicono guarda che adesso c'è da pagare ecco io ho un po' paura che questa cosa si possa si possa così possa accadere anche su su questo tema su Greta proprio perché diciamo lei è facilmente attaccabile in parte anche per questi suoi atteggiamenti questi atteggiamenti io ho capito senti c'è una domanda di un utente visto che ne stiamo parlando che visto che parlavamo di impatto che le persone possono avere anche con la propria alimentazione c'è una domanda di Andrea Corsi che chiede discussione sulle fake meat aspettative impatto preoccupazioni se ne vede all'orizzonte focus ti dà anche il focus è proprio una cosa focus su potenziale effetto golden rice e che democratizzazione di accesso agli oligolementi insomma tu come le vedi questa fake meat la vedi fake meat non mi piace il nome fake normalmente ha un senso è un senso assolutamente ma no anche questo sembra una roba da frankenstein non so ci troveremo un nome migliore però appunto l'idea è di fare questa carne stanno pensando anche non solo tra l'altro noi chiamiamo carne sia il pesce sia il pollo che il maiale che i bovini nella lingua anglosassone meat è esclusivamente il bovino solo il bovino sì perché poi c'è poltri che sono il pollo quindi questo tra l'altro causa anche una serie di equivoci perché quando negli Stati Uniti parlano di no meat per esempio non intendono necessariamente tutto quello che noi intendiamo carne quindi magari si mangiano l'hamburger di pollo per cui c'è il giorno non credo che ci sia chi mangia non mangia il manzo ma mangia ok non ha senso ok va beh dipende dal che lo fai quindi penso per dire che stanno hanno fatto appunto l'analogo stanno cercando di fare di migliorarlo l'analogo diciamo della carne dell'hamburger diciamo e stanno cercando di fare anche l'analogo per il pollo allora io non l'ho ancora assaggiata quindi ci sono chiaramente vari aspetti chi l'ha assaggiata dice che banalmente dal punto di vista gustativo è quasi come un hamburger sinceramente non ho idea dei costi industriali però vedo che ormai negli Stati Uniti la vendono addirittura anche nei supermercati e so che o sta arrivando anche qui o è già arrivata in qualche catena di supermercato qualche cosa mi hanno detto credo che qui sia arrivata quella che però non è veramente fatta di carne ma assomiglia alla carne in consistenza però è fatta di cose vegetali allora vedo molta confusione su questo allora ovviamente studi scientifici su questa roba ancora non ce ne so ci sono delle ipotesi in base a come è stata fatta in base alla composizione alle molecole che contiene non dovrebbe avere grossa differenza ahimè dal punto di vista salutistico per cui se l'obiettivo è prendo l'hamburger di carne in laboratorio perché penso che mi faccia meno male perché ricordiamolo che la carne rossa è probabilmente cancerogena e la carne lavorata è sicuramente cancerogena ecco la stessa cosa molto probabilmente vale anche per questo tipo di prodotti certamente molte persone invece pensano si illudono di potersi strafogare con gli hamburger fatti con così con la soia ma non alla maniera vecchia ma appunto molto più molto più credibili ipotetici ma per ora solo ipotetici vantaggi potrebbero esserci sì dal punto di vista ambientale e l'impatto ambientale e torniamo al discorso di prima non solo delle emissioni perché allevare dei bovini costa un sacco di risorse non solo quindi non c'è da ragionare solamente in termini di CO2 emessa o metano ma anche di acqua ma anche di acqua ecco da quel punto di vista infatti è una cosa che prima o poi mi metto a vorrei scrivere un articolo per spiegare che appunto non tutto quello che noi chiamiamo carne ha lo stesso impatto ambientale è una cosa abbastanza nota diciamo nella letteratura scientifica che un pollo impatta molto di meno di un maiale che a sua volta impatta meno di un bovino che impatta molto più di tutto insomma quindi non è la stessa cosa per cui sì cioè dal punto di vista ambientale potrebbe ma anche lì c'è da fare un'analisi specifica dipendente dal processo di produzione perché devi fare un'analisi di LCA di Life Cycle Assessment cioè capire le singole componenti che vai a mettere nel tuo panino cosa sono costate dal punto di vista energetico è molto probabile che costino molto meno di appunto allevare un bovino vero ma quanto meno ancora non è chiaro quindi in prospettiva potrebbero essere una cosa utile non ho idea anche della scala cioè non so quant'è la capacità produttiva per esempio di una cosa di questo genere se rimarrà una cosa di nicchia dipende da quanto è commercializzabile quello è una grande sfida sì non lo so io per esempio non ho idea di quanto sinceramente non conosco il processo di produzione non so quanto tempo per esempio serva per produrre perché questo è fondamentale perché i polli costano poco e perché hanno anche un impatto minore perché il pollo che noi copriamo al supermercato se ha tre mesi è tanto le uova quasi tutti i giorni vengono prodotte io non ho idea di quant'è il tempo di produzione fisico di un hamburger di questo genere può essere un giorno globalmente può essere una settimana non lo so e quindi questo chiaramente ha un impatto poi sulla scalabilità di tutto il processo io credo che queste cose noi ne pensiamo adesso come cose un po' fighette tipo magari mi mangio quella carne eccetera però il più grande mercato che io vedo per questo tipo di prodotto sono i mercati emergenti sono le persone che adesso la carne non ce l'hanno e la potrebbero avere così perché noi potremmo anche dire sì mi sembra però non è effettivamente uguale chi non ha la carne e la può avere in questo modo la troverà fantastica una volta che questo mercato cresce ipotizzando che appunto ci siano le strutture per costruirle in scala una scala importante che rende il tutto economicamente perché si tratta sempre i soldi economicamente stabile allora potrebbe potrebbe essere che poi questa cosa diventi sarebbe interessante io la vorrei assaggiare sì sì anch'io infatti quando mi capiterà di andare in un paese dove dove la vendono sicuramente l'assaggerò ecco o magari arriverà qui in Italia vicino l'ideale sarebbe assaggiarla in realtà senza sapere che no certo però molte persone che mi hanno scritto che vivono all'ESA vivono negli Stati Uniti mi hanno scritto e mi hanno detto guarda io l'ho assaggiata è quasi sono sempre hamburger giusto? sì quello che mi hanno sì sì perché non puoi fare le costine no le costine no però probabilmente se tu hai la tecnologia puoi fare un qualche cosa che è analogo non gli stecca ok probabilmente senza è il grasso è un problema quello potrebbe essere un problema però diciamo qualche cosa è un po' come se tu vai al supermercato compri le cotolette di pollo quella è carne ricostituita diciamo che non è proprio come avere la fiorentina però qualcosa di analogo probabilmente si inventa se c'è un mercato la tecnologia probabilmente si inventerà qualche cosa sì mi piacerebbe assaggiarlo vedremo ecco io tra l'altro tu dici nei paesi emergenti questo potrebbe essere un così un buon prodotto in realtà c'è un passo intermedio perché dal passare a dal passare a mangiare carne vera o finta ma solamente i tagli pregiati no appunto l'hamburger o la bistecca a non mangiarla totalmente no perché in molti paesi partono da o mangiarla una volta ogni veramente una volta all'anno c'è uno stato intermedio che avevamo anche noi in Italia che è quella di consumare tutto quello che c'è da consumare in un animale questo è un tema che a me sta molto a cuore da me si è persa dici sì perché voglio dire se tu vai al supermercato e vuoi comprare della carne i tagli che trovi parliamo dei bovini i tagli che trovi sono tagli che sono i cosetti tagli pregiati quindi prendi il filetto il controfiletto lo scamone alcuni tagli un po' qua e là ma tutto il resto dell'animale non viene più cucinato una volta dell'animale si faceva tutto si mangiava tutto adesso si è persa anche le frattaglie cioè la cucina italiana è nata dalla povertà e dall'utilizzare i pezzi poveri io qualche anno fa un po' di anni fa sono stato in vacanza qui in Sardegna sono andato in un ristorante a mangiare il menù barbaricino e ho mangiato appunto la pecora bollita l'esofago ho mangiato tutto e le frattaglie al di là della questione diciamo puramente gastronomica comunque sono buonissime io sono vissuto a cervello fritto a fegato cuore cose che adesso non trovi banalmente più e molte persone non sanno più neanche come cucinare però dal punto di vista della sostenibilità ambientale è un grande spreco perché tu allevi un animale intero poi la gente vuole comprare solamente alcuni pezzi alcuni tagli e tutto il resto o lo butti o lo trasformi magari viene utilizzato per altri tipi di industria certo per gli animali una parte viene trasformata in farina animale che viene utilizzata come fertilizzante per crescere magari dei cereali che poi vengano dati da mangiare a degli altri bovini è un circolo un po' vizioso la stessa cosa vale anche se in misura minore con il maiale il maiale noi in Italia per esempio ci facciamo tutta una serie di salumi e altre cose però certe parti vengono che una volta si utilizzavano la zampa per esempio ecco non vengono più utilizzate però quindi ma lo sapevi io la mangio perché qua in Sardegna il maiale è sacro ma tu prova a andare io non lo so qui in Sardegna ma io mi ricordo quando i miei figli sono andati alla scuola materna e poi alla mensa della scuola elementare lì sistematicamente imparano a mangiare che cosa petto di pollo e bistecchina e basta cioè qualsiasi tentativo di dare il fegato per esempio qualche altro tra l'altro nutrizionalmente ottimo si perde quindi dicevo dal punto di vista ambientale quando abbiamo già che facciamo la fatica di allevare un animale con tutto il suo peso tutte le sue risorse e sfruttarne solo una piccola parte già solo se lo mangiassimo tutto come facevano una volta nei paesi poveri e come appunto spero faranno nei paesi che stanno emergendo vuol dire che banalmente puoi allevare molti meno animali no? certo per cui prima di arrivare alla carne al pezzo pregiato finto secondo me bisogna bisogna così pensare anche a sfruttare al meglio le risorse che già abbiamo perché anche lì però come fai torniamo a un discorso un po' biologico perché è molto complicato assolutamente io l'unica cosa che posso fare è scrivere delle ricette per cucinare un ottimo fegato con le cipolle o altre cose però è un po' un peccato anche perché poi sono tradizioni sono tradizioni culturali che sono perse se tu ci pensi in ogni regione d'Italia ci sono dei piatti che sono a base di frattagli pensa a pensare alla cucina romana ma anche appunto ogni pezzo dell'animale veniva sfruttato e poi alla fine con le ossa ci si faceva il brodo ah sì ok no quello non lo so se lo mai forse non ne ho idea non voglio per cui boh mi incuriosisce questa carne dal punto di vista chimico ovviamente mi incuriosisce però ecco da lì appunto a replicare il pezzo il pezzo pregiato in laboratorio secondo me ci sarebbe un pezzo intermedio e dire vabbè mangiamo anche quindi c'è un'educazione ma sì un'educazione poi è chiaro che sono cose che si dicono dovremmo però è più complicato poi sì ma come vanno le mode le mode alimentari sono mode come gli altri nessuno riesce a prevederlo sì poi dipende anche da come vengono tramandate io ad esempio molte di queste cose le mangio eccetera però mi rendo conto che i miei genitori hanno una conoscenza più estesa di cui ad esempio non le saprei cucinare io sono assolutamente analfabeta anche a livello io sono analfabeta a livello scientifico ma anche a livello culinario sono proprio un disastro non sono il miglior interlocutore per te senti volevo chiederti il problema dell'analfabetismo scientifico dal tuo punto di vista quanto è steso e c'è differenza tra perché tu sei sia un divulgatore sia un insegnante quindi tu hai a che fare con le persone normali comuni come me che seguono le cose che tu fai per imparare eccetera e chi effettivamente si si interfaccia a te in modo diverso perché è uno studente non so quanti anni hanno prima i tuoi studenti beh io insegno al primo anno dell'università ok primo e terzo anno quindi sono appena usciti dalle scuole superiori vent'anni vent'anni ok questa questione dell'analfabetismo scientifico è diversa in quella bolla o trovi che sia ma guarda soprattutto pensi che sia un problema in Italia questa questione delle persone così lontane dal o è una cosa che si dice e basta ma allora è vero che c'è diciamo a me non piace parlare di anche lì è antipatico non mi piace non mi piace parlare di analfabetismo scientifico soprattutto perché le vecchie generazioni magari non hanno davvero avuto la possibilità di andare a scuola o di andare oltre la terza media e quindi avere il tempo per imparare un po' di chimica un po' di medicina un po' di di tutto quindi il termine non mi piace è vero che le società nel nostro nel loro complesso che diventano sempre più complicate con la scienza e la tecnologia che va avanti sempre più velocemente anche chi aveva studiato all'epoca 40 anni fa 50 anni fa adesso si trova spiazzato quindi non avendo purtroppo un sistema di banalmente di televisione pubblica che cerchi di di fare un po' di spettacoli di trasmissioni culturali anche spettacoli culturali comunque qualcosa che intrattenga un po' come il modello della BBC tutti i miei colleghi ma anche io abbiamo come come mito la BBC i documentari non so se hai visto dei documentari meravigliosi quindi quindi purtroppo in Italia siamo messi un po' peggio ogni tanto ogni anno fanno questi sondaggi per tastare il posto dell'alfabetizzazione scientifica chi li fa questi sondaggi ci sono varie varie observa per esempio varie società o varie enti che fanno periodicamente e fanno queste domande che in teoria vorrebbero e dovrebbero catturare un po' l'idea appunto di alfabetizzazione scientifica chiedono cose molto semplici tipo se il sole è un pianeta o cose o non so la differenza tra un virus e un batterio cose di questo quindi cose molto molto di base quindi non so effettivamente cosa vanno a misurare quello che si vede è che negli ultimi anni c'è stato in questo ripetono sempre le stesse domande anno dopo anno quindi quello che è interessante non è intanto il fatto di quante persone sanno che il sole non è un pianeta ma è una stella ma è il fatto che ci siano delle variazioni o in positivo o in negativa negli ultimi anni le cose stanno migliorando sono un po' in crescita c'è da chiedersi se sia rilevante o meno per la società sapere se il sole è davvero una stella o è un pianeta o chi se ne frega e che magari sarebbe più importante che capissero magari l'utilità di un vaccino o delle biotecnologie o cosa succede con le cellule cosa sono le cellule staminali quindi sono cose che non sono mai state insegnate io quando ero al liceo non mi hanno mai insegnato cos'erano le cellule staminali non c'erano non sapevano non c'erano forse se c'erano erano ancora chiuse in qualche laboratorio cioè quindi c'è una necessità di diciamo di continuare anche dopo che hai finito le scuole che hai fatto pure l'università di continuare la tua educazione il tuo sapere non solo scientifico anno dopo anno perché devi rimanere al passo soprattutto su temi che hanno una rilevanza sociale e politica perché ripeto tu non sai che la differenza tra un virus e un batterio va bene poi in realtà va bene fino a un certo punto perché poi abbiamo un abuso di antibiotici che servono contro i batteri ma non contro i virus d'accordo però capisci che poi fenomeni come come stamina no o o anche proteste adesso ci sono le proteste contro il 5G sì sì alla fine i meccanismi sono sempre gli stessi se tu non sai le cose ne hai paura siamo un paese dove noi abbiamo delle scorie nucleari perché avevamo le centrali e banalmente negli ospedali di tutta Italia si utilizzano delle sostanze delle sostanze radioattive che producono delle scorie che vanno messe non siamo ancora riusciti a trovare un posto dove smaltire che bisogna adesso cioè adesso sono piazzate sicuramente in un posto meno sicuro di quello che dovrebbe essere perché perché ogni tanto quando hanno cercato in passato di trovare il posto e di bisogna dire lo facciamo lì oppure lo facciamo là in un paese specifico si levano delle proteste che sono legittime assolutamente manca perché perché uno non lo sa se domani mi dicessero guarda che domani ti piazziamo lì una roba tu non hai idea di cosa sia non lo sai nessuno te lo viene a spiegare tu dici no ti dico no perché c'ho paura ma è ovvio e quindi questa idea di ah se spiegassero nelle scuole non funziona perché il progresso è talmente veloce che quello che comunque hai studiato a scuola vent'anni fa trent'anni fa non ti basta ti serve per avere un modo mentale per approcciarti al mondo per avere delle per aggiornarti continuamente e quindi chi deve farlo e quindi chi deve farlo bella domanda io ho tante domande ma non ho risposte tu lo fai un po' dal punto di vista dell'informazione politica io cerco di farlo un po' singolarmente diciamo come come youtuber diciamo come divulgatore chiaramente la parte diciamo di docente è separata la domanda è è corretta la risposta facile no che ho scritto lato anch'io prima è dovrebbe farlo la televisione no ma in realtà non è così vera o meglio era vera una volta ed era un ruolo che diciamo quando c'era la televisione pubblica c'era il monopolio no la RAI aveva anche delle trasmissioni di cultura c'era anche una se non voglio fare l'elogio della RAI degli anni 60 anni 70 però quando non si doveva competere per il mercato pubblicitario e sull'ultimo sull'ultima trashata social di quelle che vanno che vanno per la maggiore adesso beh c'era anche c'era anche un così una motivazione culturale un obiettivo di alfabetizzazione del paese che era molto molto più ignorante di adesso adesso la televisione non ha più quel ruolo lì l'ha abbandonato tempo fa ma d'altra parte la televisione non raggiunge più i giovani i giovani non guardano più la televisione quindi al di là della scuola che però non possiamo caricare tutto sulla scuola perché a scuola bisogna bisogna fare imparare a scrivere leggere far di conto va bene introdurre delle cose nuove però insomma non è la scuola che può essere aggiornata all'ultima scoperta scientifica la domanda è assolutamente legittima perché devi andare a fare informazione dove dove sono le persone e quindi come fai la domanda quindi te la ribalto come fai a raggiungere persone che non guardano la televisione ipotizziamo che avessimo la BBC di avere la BBC e non invece la televisione che abbiamo adesso pubblica privata poca differenza ma se comunque le persone non la guardano e le persone magari più giovani stanno da altre parti sui social magari o si guardano altre cose come fai a raggiungerle cioè uno dice chi se ne frega non si aggiornano peggio per loro no perché poi se ci sono dei temi che sono socialmente rilevanti c'è da fare un referendum per dire tutti devono avere devono essere messi in condizione di poter decidere senza avere paura parlando di cose che possono avere paura ma anche di altri temi capisci e quindi non lo so la risposta è non lo so passata la televisione uno direbbe i giornali a parte il fatto che anche lì i giornali stanno crollando come vendite i giornali di carta e non hanno non so se sai quanto vende adesso al Corriere della Sera credo prova a dire ogni giorno ah ogni giorno 100.000 no sei andato molto un po' sotto rispetto alla venda credo venda tra le 250 comprese le copie digitali per cui non so ah comprese le copie digitali 250.000 forse 300.000 fa 300 sì davvero comprese ho guardato i dati qualche giorno fa su diffusione stampa che è un sito di certificazioni ok se tu vai a vedere quanto vendeva forse vent'anni fa vendeva più del doppio il triplo sono arrivate a punte di 700-300.000 copie e questo vale anche per le riviste vale anche per le riviste scientifiche per esempio che continuano a crollare quindi anche lì uno dice vabbè i giornali è vero l'informazione scientifica sui giornali nostrani fa schifo ma fa veramente schifo non c'è un minimo di approfondimento e quando qualche questo è un problema quando qualche tema scientifico viene sbattuto in prima pagina appunto il caso del cambiamento climatico ma è successo con stamina con le cellule staminali è successo anche in altri casi è successo con il terremoto a un certo punto quando arriva sulle prime pagine non lo fanno seguire più da giornalisti scientifici cioè di chi ha il background per capire se stai dicendo una cazzata oppure se se c'è qualcosa di vero che è stranissimo per me che non ci sia all'interno delle redazioni un sistema non c'è più almeno leggi quello che ho scritto e vedi se no non in italia per cui anche lì poi si lamentano perché non sono più credibili ma per forza per non parlare della parte online dove fanno a gara copia e incollare robe lanciate il minuto prima io intanto quando faccio le conferenze prendo di mira parlando di alimentazione le cosette fake news ma non quelle organizzate dai siti russi no sono quelle che ogni giorno anche i giornali bere il gin tonic fa dimagrire ma dove nel momento in cui arriva una notizia di questo genere tutti lo mettono nel colonino morboso intanto mi metto lì per divertimento vado a vedere l'origine quella del gin tonic era un pesce d'aprile nato come pesce d'aprile in Gran Bretagna qualche anno fa che per qualche ma era dichiaratamente un pesce d'aprile poi per qualche motivo qualcuno qualche anno dopo l'ha preso l'ha copiato senza dire che era un pesce d'aprile e due ore dopo tutti i giornali loro l'ha replicato perché l'effetto è quello io infatti spesso fatico a spiegare non so quanto lo posso spiegare che effettivamente le fake news siano un problema all'interno del giornalismo stesso assolutamente perché i giornali hanno spesso questo atteggiamento molto autoassolutorio nel tipo ci sono le fake news dei talk delle cose e ci siamo noi e poi se la tirano esatto siamo l'ultimo muro prima del disastro in realtà sono il disastro stesso perché poi c'è proprio questa questione dell'autorevolezza infatti il discorso che tu facevi sui social i giovani che stanno sui social la televisione in realtà in questo momento proprio come dicevi tu c'è un gap enorme c'è chi guarda i social e chi guarda la televisione molto difficilmente questi due mondi comunicano perché è una questione d'età e anche tra social e social c'è tanta differenza ma infatti io credo che il mio pubblico sicuramente ma senz'altro anche il tuo in realtà siano delle bolle spesso capita che io magari e altri cerchino di fare debunking o spiegare questa cosa non è vera il gin tonic probabilmente non ti fa dimagrire neanche il mirto neanche il mirto a quante persone arriva e a quali persone arriva questo messaggio è un po' un problema sì tu dici arriva già alle persone che non ne avrebbero bisogno probabilmente sì questo è vero o meno in parte è sicuramente vero è però vero che questa bolla si allarga per cui tu stesso nel momento in cui tu adesso hai più di su youtube più di 500.000 persone non so quanto sei arrivato forse sei c'è non lo so di sicuro più di 500.000 prima ne avevi molte meno quindi nel momento in cui tu ampli la tua bolla vuol dire che stai prendendo che stai raggiungendo persone che prima non ti raggiungevano poi sono c'era adrian che è arrivato qui che è arrivato su youtube molto prima di me che aveva una sua bolla che anche lui ha fatto ampliare e che non corrispondeva non coincideva con la tua probabilmente poi sono arrivato io pian piano queste bolle contemporaneamente chi segue me io a un certo punto ho detto che sono andato su youtube anche perché avevo visto i miei video molti di quelli che hanno visto quel mio video sono andati da te e tanti hanno visto alcuni quando magari mi capita di commentare su tutti i tuoi video vengono da me e non mi conoscevano mi ha fatto ridere qualche ho commentato un video forse una settimana fa non quello di Greta non mi ricordo che cosa e a un certo punto un tuo commentatore dice una cosa adesso tutti mi stanno io avevo commentato mi hanno detto poche cose e quindi sotto alcuni che mi conoscevano dicono ah Bressanini alcuni dicevano dovete andare a seguirlo andate a vedere i suoi video uno mi dice scrive io non lo conosco sarà sarà mica uno uno dei soliti fascio comunisti che vi piacciono ok ok poi è andato io non commento quel fascio comunista poi dopo un paio di messaggi scrive dice sono andato a vedere il canale di Bressanini non è un fascio comunista come temevo e mi sono piaciute le cose che non seguirò mi ha fatto ridere quindi diciamo è vero che tu singolarmente io singolarmente ma anche altre persone che fanno altre cose su altri soci diciamo globalmente la comunità di persone che sta cercando di supplire un po' all'informazione diciamo tradizionale che ha dei problemi suoi economici per il mantenimento ovviamente poi non è che fanno apposta diciamo però diciamo che sta aumentando quindi io questa cosa qua la vedo positiva la vedo in modo positivo io tuttora ricevo appunto iscrizioni sia su Instagram su Instagram sono andato esattamente per questo motivo per allargare la bolla perché ho scoperto che le persone ma forse succede anche a te le persone che mi seguono su YouTube non sono le stesse che mi seguono su Instagram sia dal punto di vista del genere la maggior parte sono donne che mi seguono su Instagram e uomini invece che mi seguono su YouTube sia anche la parte dell'età su YouTube sono un po' più giovani per esempio su YouTube sono più giovani che su Instagram? sì ok leggermente su Facebook dove mantengo la pagina anche se ho eliminato il profilo sono notevolmente più in là con l'età sì sì diciamo che vanno al di sopra dai 35 anni 40 anni per cui sono andato lì anche per quello per ampliare la bolla quindi sì diciamo se fosse una sola bolla se tutti quelli che seguono me seguissero anche te seguissero anche tutti gli altri che parlano diciamo che fanno divulgazione culturale o informazione allora si sarebbe un problema il fatto che stiamo aumentando di numero globalmente e quindi aumenta diciamo il gruppo di persone che scopre che c'è qualche cosa oltre agli scherzi stupidi o all'influenza che ti spacciano il tè di magari sì a quello arriviamo ah ok ma sicuramente per cui sì diciamo da questo punto di vista la vedo in modo positivo come divulgatore scientifico trovo che sia un momento ottimo per la divulgazione scientifica nel senso che lo vedo per esempio non sto parlando dei social solamente quello se vogliamo è un riflesso se mi ricordo dieci anni fa era difficile in Italia trovare nelle varie città anche diciamo piccole manifestazioni culturali e scientifiche di divulgazione scientifica festival quelle che adesso vengono chiamate festival ce ne erano pochissimi ormai ce ne sono dappertutto anche in piccolissime piccolissime città di provincia perché hanno cioè si è scoperto che le persone se gli dai un'offerta se un un'estate invece di fare la manifestazione in cui chiami va bene il gruppo musicale folcloristico va bene l'autore locale che ti parla di come hanno restaurato la cappella del paese ma se chiami anche qualcuno che ti parla di giove di marzo che ti racconta altre cose il pubblico va a vederlo per cui mi è capitato mi capita continuamente adesso di essere invitato anche in piccolissime manifestazioni che sono mentre appunto dieci anni fa c'erano solo questi grossi ma pochissimi festival c'è il festival della scienza di Genova c'erano poco altro adesso raccontavo nell'articolo di oggi che in primavera sono stato a Cassano nelle murge a Cassano scienza quindi paesino eppure ci sono ci sono state così le risorse la volontà un gruppo di persone che si è messo lì e ha detto dai organizziamo questa cosa col supporto anche della scuola locale dell'istituto superiore locale con le professoresse i professori il liceo eccetera eccetera il dirigente scolastico e hanno messo insieme un festival scientifico ovviamente servono i quattrini alla fine arriviamo sempre lì servono i quattrini però sono riusciti a trovarli perché poi voglio dire non è che inviti giovanotti a fare il concerto inviti Bressanini e Mautino andare a fare una conferenza quindi devi pagargli il viaggio però non sono cifre assurde certo ma anche se vai banalmente non so in libreria vedi che la sezione non in tutte le librerie perché in altre sezioni in alcune librerie però diciamo l'offerta di libri di divulgazione scientifica italiani cioè scritti da autori italiani per un mercato italiano quindi non semplicemente tradotti e non dei mega super big che per carità va bene però quelli ci sono sempre stati o di Freddy poi c'era la Margaret Huck Moncinelli e così via ci sono un sacco di libri di divulgazione scientifica scritti anche da giovani e quindi vuol dire che c'è un mercato e vendono vendono come vendono i libri di altro tipo però almeno ci sono quanto è? un libro diciamo scientifico che va bene quanto vende? allora adesso poi mi criticheranno perché io finisco sempre a parlare di numeri di sogni no io adoro parlare di numeri perché io sono uno scienziato per cui io misuro il mondo con i numeri io ho bisogno dei numeri per farmi delle idee e quindi anche quando scrivo scrivo dei libri allora il libro fai conto che il libro quadratico medio ma non premessa non conta niente che sia un libro di divulgazione scientifica o sia un libro in cui ti raccontano di come si fa giardinaggio nell'orto ah non sono divisi per no no sto dicendo che dal punto di vista della casa editrice non gliene frega niente no no non gliene frega ma sono grossi comparti ok i libri diciamo di divulgazione scientifica ricadono nella saggistica cioè sono i saggi però un saggio può essere quello di Bressanini che parla degli OGM ma un altro saggio può essere quello di qualche cos'altro che parla del mercato dell'auto o di politica cioè i saggi generalmente sono raggruppati tutti in una categoria poi c'è la narrativa che fa un'altra cosa poi c'è la varia i libri degli youtuber quelli tutti colorati con le foto perfetto vabbè che a volte non scrivono neanche loro ma vabbè allora quindi il libro quadratico medio in Italia stampa dalle mille alle tremila copie sono numeri molto poco molto poco quando un libro non sto parlando dei big ma questo vale anche per la narrativa anche per se tu vai in una libreria trovi centinaia migliaia di libri che sono usciti negli ultimi mesi di romanzi di tutti i tipi cioè se fai un po' i conti non possono vendere tanto e alla fine appunto cominciando a frequentare il giro e seguendo anche alcuni profili instagram che raccontano proprio come funziona il mondo dell'editoria dall'interno capisci ma questo l'ho visto anche con i numeri iniziali il libro quadratico medio inizialmente stampa diciamo dalle mille cinquecento alle tre mila copie più o meno stampa perché non è detto che le venda tutte ma se un libro riesce a vendere tre mila copie in Italia è considerato un successo quindi sono numeri ridicoli veramente ridicoli tieni conto che adesso rispetto a molti anni fa le case editrici lavorano sostanzialmente su ordinazione cioè il libraio in anticipo riceve la visita di chi propone le varie novità del semestre successivo per esempio e dice vabbè insomma il nuovo libro di Bressanini ho visto che l'ultimo ha venduto tre copie ne ne ordino quattro quindi alla fine le case editrici stampano quello che gli serve per fare la prima tiratura e la maggior parte dei libri che vengono stampati non viene più ristampato quindi fai conto che il libro guardatico medio se vende tre mila copie è un successo è andato bene è andato bene ok se tu ne vendi cinquemila è un buon successo è chiaro che poi va riscalato perché case editrici molto grandi hanno magari dei target anche per i loro costi industriali più elevati di quelle piccole case editrici però sono gli ordini di grandezza sono questi quindi sono abbastanza pochi quindi ma non è non è che la divulgazione scientifica sia diciamo più sfigata rispetto ad altri ad altri ad altri settori della saggistica perché comunque la divulgazione culturale in Italia comunque è un mercato piccolo ma è un mercato piccolo quello che chi legge perché perché le case editrici si sono buttate sugli youtuber quelle di successo perché hanno la sicurezza che magari quei libri li vendono quelli libri hanno fatto magari trenta quaranta cinquantamila copie e quindi sono best seller quindi questi sono best seller fanno cassa assolutamente per questo che ci sono buttati tutti ma perché ma perché vengono comprati dai fan perché poi possono andare a farsi di firmare hai firma copie anche perché non tutti in alcuni eventi se non hai il libro non puoi andare lì a farti la foto e a firmarti quindi è un biglietto è un biglietto è un biglietto esattamente esattamente poi non tutti così poi ci sono alcuni che lo so li conosco che li hanno scritti davvero loro altri che mi hanno detto in casa editrice ma c'è il ghost writer perché abbiamo messo insieme alcuni l'hanno anche ammesso ma va bene perché non sono non sono saggi sono libri con delle foto illustrati con qualche cosa li stai descrivendo tipo i libri tipo quegli animali che sto comprando sono diretti a un pubblico molto piccolo non tutti non voglio fare appunto quello che fa il termofascio però molti sono diretti a un pubblico abbastanza giovane che quindi va benissimo ma questo per darti un'idea dei numeri quindi la divulgazione scientifica io dico che in questo momento è un buon momento lo vedo perché appunto ci sono tanti libri quindi vuol dire che comunque vendono anche se pochi ma non tanto di meno di altri di altri di altri tipi di libri vedo tanti divulgatori specialmente su instagram in questo momento stanno iniziando tantissimi ragazzi a mettersi lì chiaramente non lo fanno ancora dal punto di vista professionale ma alcuni stanno già cercando o pensando di fare un salto cioè di farlo diventare un mestiere quindi stanno crescendo perché banalmente ci sono le persone che hanno voglia di sentire qualcuno che la sera gli racconta tutto sulle cellule staminali o che gli racconta tutto sulla chimica dell'ombretto o io che gli racconto del bicarbonato o Adrian o Luca Perri o tante altre persone la Silvia Cuna che gli racconta di Marte e così via cioè è diventata una forma di intrattenimento culturale che secondo me è una cosa positiva l'ultima cosa sui libri tanto per chiudere la questione dei numeri sì no poi se no ti dico anche altri numeri se vuoi ti dico anche i numeri dei miei libri che i miei libri sono considerati un grande successo dagli editori perché vendo un po' di più quindi quanto quanti allora il libro che per ora ha venduto di più sì perché diciamo è quello uscito prima con i pane e bugie del 2010 credo che abbia venduto global mi sto parlando delle copie di carta perché le copie elettroniche hanno tutto un altro hanno un conteggio loro sì non riesco mai a stargli dietro e poi certe cose che non ho un controllo diretto delle copie per esempio a volte vengono vendute in abbonamento se tu hai Amazon Frank che ne so sì oppure oggi c'è l'offerta per cui 0,99 euro però quindi io ho reso conto anche reso conto delle copie elettroniche però non c'è un rapporto diretto cioè è una cosa più complicata è più complicata di carta sulle più di 30.000 copie se dovrei guardare pane e bugie pane e bugie che è uscito nel 2010 la cosa interessante dal mio punto di vista è che continuo a mantenerlo vivo perché ne parlo nei social perché la gente mi guarda e così via pochissimi libri hanno quindi è un successo però se io penso che 30.000 persone le raggiungo boh nelle prime tre ore in cui faccio un video su YouTube certo o oggi non ho guardato le statistiche del blog ma sono convinto che oggi il mio articolo oggi l'abbiano letto più di 30.000 persone quindi i numeri sono quelli pensa che comunque quindi questo è un successo però è un successo relativo se fossimo negli Stati Uniti o in un mercato se scrivessi in lingua inglese dovremmo moltiplicare tutto per 10 almeno però siamo in Italia però fai conto che in Italia si pubblicano un sacco di libri che vendono poco per cui c'è anche un mercato una concorrenza notevole ogni anno in Italia vengono pubblicati 60.000 titoli saranno però non letti cioè sarà come su YouTube chiunque carica dei video ci prova però la maggior parte non viene vista sì 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 ci sono anche i libri piccolissimi delle case editrici però siamo al punto tale per cui ingolfano le biblioteche le librerie anche le biblioteche e hanno però quei numeri lì che ti dicevo cioè ecco se con 3.000 copie la casa editrice è andata in pareggio beh è contenta riesce a farsi dare poi degli altri prestiti dalla banca per poter fare un contratto per un altro libro e si mantiene 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 però 60.000 libri in Italia ogni anno sono una cifra pazzesca e quindi ovviamente con pochi lettori che abbiamo in Italia perché è una cosa insomma quindi tornando al discorso di prima chi lo dovrebbe fare allora abbiamo detto che la televisione no i social no i libri sono pochi che lo leggono quindi non ci sono soluzioni nel senso cioè sì ci sono delle soluzioni perché il punto è questo raccontiamola questa cosa l'altra volta che ce l'avamo visti forse due anni fa quando ti ho invitato mi hai accompagnato alla festa della rete che avevi vinto sì e mi avevi fatto un gin tonic quindi da lì il mio dimagrimento è iniziato è vero devo dire che secondo me non è te l'avevo fatto un po' troppo carico non è il mio drink perché non mi piace il gin quindi è un po' qual è il tuo drink così la prossima volta è il tuo drink preferito il whisky a me piace molto il whisky ah tu vuoi il whisky eh sì quindi il bourbon il bourbon mi piace moltissimo ma tutti i whisky sono abbastanza comunque tu mi avevi dato dei consigli diciamo mi avevi detto a parte che mi avevi dato dei buoni consigli uno di questi è la ragione per la quale sto facendo questo podcast cioè cercare di uscire un po' di casa cercare di aprirmi agli altri ma mi avevi dato un consiglio sui libri mi avevi detto se puoi scrivi un libro che adesso è un po' in controtendenza con questa cosa dei libri degli youtubers no ho capito ma io youtube hai capito cosa a cosa mi riferivo io sono youtuber scrivo libri sì no sto scherzando lo dico per questo perché c'è un discorso di autorevolezza tu mi avevi fatto proprio un discorso di autorevolezza cioè in Italia i libri vendono poco tu questa cosa me l'avevi già detta anche se non senza numeri ma quando scrivi il libro sei percepito come autorevole che è sempre tutto un gioco così no cioè perché effettivamente 3000 copie sono poche per uno youtuber medio no eh però una volta che scrivi il libro entri in un sì c'è una sorta di circolo di autorevole giusto o sbagliato che sia ok viene percepito come dal mondo diciamo culturale quello della carta quello è lo stesso che scrive sui giornali sì e che scrive solo sui giornali sui giornali teorevoli se tu non scrivi un libro di carta che va in libreria e che vende un po' ma non non sei una persona seria sei uno da non prendere troppo su sé per cui io il pane e bugie in realtà nel 2009 avevo scritto un libro appunto per Zanichelli sugli OGM il mercato il target però erano gli studenti delle scuole superiori quindi non che si chiamava OGM tra leggende e realtà è una collana di Zanichelli tutti lo possono leggere però quando l'ho scritto mi avevano detto di scriverlo immaginando uno studente diciamo di quinta liceo di quarto e quinta liceo e in effetti il mercato sostanzialmente è stato quello molto spesso veniva ma tuttora ho fatto la seconda edizione viene consigliato come lettura estiva dalle prof quindi quello ho scritto il 2009 però il 2010 ho scritto il pane e bugie che è nato dal blog nel senso che almeno la metà dei capitoli sono nati come articoli che avevo scritto sul blog che ti ho riportato adattato ampliando e poi ho scritto il materiale nuovo quindi ero al blog erano già un po' di anni che ce l'avevo e quindi già giornalmente facevo numeri molto più alti di quelli che poi ho raggiunto con il libro eppure nessuno mi si filava ma parlavo degli stessi argomenti seri cioè parlavo va bene anche della chimica del pesto del pan di spagna ma parlavo ho raccontato della bufala della fragola pesce è nato lì ho parlato del biologico di pesticidi degli OGM quindi il chilometro zero cioè gli discorsi diciamo cercavo di contribuire al discorso alla discussione pubblica su questi temi di cui si parlava molto all'epoca eppure non ero minimamente considerato nel momento in cui ho scritto un libro su carta che appunto vendeva che ha venduto molto meno di quanto potesse essere letto il mio blog però è finito come recensione su non mi ricordo sulla Repulcuri della sera sono stato chiamato da Corrado Augias in televisione per fare la trasmissione di libri non ti ho visto lì però non so se è andato niente a un certo punto sono diventato autorevole dicevo le stesse cose di prima però il fatto che avessi solo un blog e poi non fossi un giornalista non sono tuttora un giornalista non venivo preso sul serio le persone le raggiungevo lo stesso ma non ero preso sul serio dall'intelligenza dal mondo culturale italiano diciamo così e quindi sì tuttora tu fai un'opera meritoria di non solo di informazione ma perché secondo me tu hai anche tu ma anche altri ma offri uno spazio di discussione pubblica abbastanza privo di rumore comunque con un rumore molto basso al di sotto dei tuoi video che è quello che un po' facevo io adesso è molto cambiato l'ecosistema del mio blog ma il mio blog viveva dei commenti delle persone e lì il rapporto segnale rumore è sempre stato molto molto favorevole al segnale il troll non c'era la discussione i flame non c'erano quindi tuttora è rimasto così solo che il numero di persone che commentano lì sotto si è molto diradato quindi tu offri ma così come tanto altro uno spazio culturale di discussione che non c'è in altri posti in più fornisci che io fornisco i miei colleghi i miei amici cerchiamo di fornire delle informazioni un modo di pensare al di là di fare il debunk sulla singola cosa un modo di approcciare i problemi che è molto importante però non sei preso sul serio poi io peggioro la mia situazione quando mi metto l'ombo ragno dietro non hai idea di quante persone di una certa età mi dico ah leggo i commenti ah ma come faccio a fidarmi di uno che c'ha l'ombo ragno dietro con le camice però sì quindi dal punto di vista io continuo a consigliarti diciamo per la tua carriera di pensare di offrire diciamo così di uscire dal dal video in qualche maniera potrebbe non essere un libro potrebbe essere un corsivo su qualche giornale non lo so però secondo me potrebbe essere un bene per te e anche per tutto ma perché pensi che ci sia questa cosa vorrei capire perché e credo che sia molto una questione generazionale cioè all'estero non è così negli Stati Uniti non è più così diciamo quindi è una questione di evoluzione sì sì ma banalmente tu prendi il museo quadratico medio italiano museo è polveroso poi ci sono i problemi perché non ci sono i soldi ma c'è anche proprio una resistenza al cambiamento alla novità all'aprirsi e al cercare di raggiungere un pubblico nuovo c'è questa così questa quest'idea se tu vai a vedere ci sono dei musei meravigliosi negli Stati Uniti ma anche in Germania in altri posti che hanno dei canali YouTube c'è un canale il museo di Chicago non so come si chiama non mi ricordo come si chiama come di storia naturale che ha lì i reperti l'uovo fossilizzato la zampa di un animale estinto e così via ha un canale YouTube in cui c'è una persona che fa dei video ti prende un reperto te lo racconta e ovviamente con il linguaggio adatto al mezzo cioè a YouTube una cosa del genere ed è appunto uno dei migliori musei che ci siano negli Stati Uniti quindi un'istituzione culturale in Italia non si può fare non si fa una cosa di questo genere perché è bassa perché è bassa ma la stessa cosa la vedo io nell'ambiente universitario tuttora tranne alcune isole felici così la divulgazione viene vista molto male ho una domanda su questo lo sai viene vista molto male perché qualcuno l'ha notato eccola qui la domanda è di Sandro che mi ha scritto lavorando nel settore della ricerca mi è venuto spontaneo andare a cercare il suo parla del tuo curriculum di pubblicazioni universitarie ho notato che nel suo storico ci sono soprattutto pubblicazioni con pochi autori e in larghissima parte lui è il primo o l'unico autore è possibile che questo sia una conseguenza della sua attività di divulgatore che l'ha marginalizzato? no 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 quello no quello è abbastanza tipico nel mio settore di ricerca che è un settore di ricerca che non richiede grosse collaborazioni io sono un chimico teorico faccio simulazione e calcolatore quindi posso lavorare da solo quando c'erano molti più studenti che sceglievano diciamo il mio settore io e le persone con cui collaboravo e collaboro avevamo anche l'aiuto di qualche studente laureando dottorando e così via no da quel punto di vista no cioè non è una conseguenza non c'entra niente però è vero che l'attività di divulgazione se non è vista dall'università in modo utilitaristico cioè tu fai divulgazione ok ma mi porti degli studenti no e viene vista nel caso migliore viene ignorata nel caso peggiore viene ostacolata oppure diciamo ti fanno capire che non apprezzano ok a meno di appunto di organizzare qualche cosa che possa attirare studenti iscritti banalmente la notte dei ricercatori che si fa oggi tra l'altro se non ricordo male in tutta Italia in alcune università dal mio punto di vista è organizzata bene come un'attività di divulgazione verso il pubblico generico per spiegare cosa si fa per raccontare delle cose in altri casi viene vista come un'attività promozionale dell'università cioè lo scopo è voglio attirare gli studenti perché così l'anno prossimo ho più studenti così mi hanno più tasse o più iscrizioni o più soldi dal ministero eccetera eccetera quindi questa non è divulgazione questa è attività promozionale è un'altra cosa questo devo dire che non è ma tu ce l'hai questo problema o no perché tu ormai hai aggiunto quel livello di autorevolezza che ti fa uscire effettivamente dal blog o no 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 sono due cose diverse nel mondo scientifico nel mondo dell'università allora diciamo che alcuni colleghi mi apprezzano ok altri no diciamo così non ce l'hai questo problema diciamo no diciamo che ce l'ho avuto e me ne sono fatto una ragione ah ok quello dell'isolamento proprio no isolamento diciamo no però battutine ah ok scarsa considerazione ma in generale ma non è solo un problema italiano era anche un problema un problema all'estero una volta in parte non è più così ma comunque non è totalmente assente c'è un effetto che viene chiamato effetto Carl Sagan storico divulgatore astrofisica che è stato uno dei primissimi divulgatori lui la sua carriera è stata c'è che su wikipedia c'è proprio effetto Carl Sagan la sua carriera è stata fortemente ostacolata dai suoi colleghi dalla struttura universitaria americana perché vedevano di mal occhio il fatto che lui andasse in televisione e facesse questa bassa bassa divulgazione e questi discorsi qua li sento anch'io cioè li sento ancora li sento ancora in alcuni in alcuni ambiti si si mi è capitato poi alcune cose vabbè inutile fare nomi però qualche volta qualcuno mi scrive perché spesso i colleghi o gli amici ricercatori o docenti in giro per l'italia più giovani magari mi conoscono ci siamo conosciuti a volte mi dicono ma sai che ho proposto il tuo nome per questa manifestazione che facciamo a questa università e mi hanno risposto che no perché tu sei troppo basso troppo poop troppo troppo cioè chi se ne frega adesso voglio dire se vuoi essere alto l'ideale scrivere i libri ma non andare su e soprattutto i libri non devono vendere no perché se vendono se vendono ah sei troppo popolare è troppo popolare è come per la music non è diverso no è presente ma adesso è diventato mainstream non va bene per cui si devi vendere 100 copie e devono comprare solo i tuoi colleghi devi essere un po' la copertina assolutamente molto morigerata un po' sfigata no vabbè sì però comunque c'è questo problema però devo dire che dall'altra parte vedo un sacco di giovani nell'università diciamo che se ne sbattono di questa cosa che ci provano perché è cambiata la cultura su questo aspetto per cui credo che sia anche la questione della cultura nerd che è un pochino è diventata un po' più mainstream e quindi le persone che avevano un certo tipo di interesse lo palesano di più lo esprimono di più certo ma tu pensa è in parte una questione generazionale quindi pian piano spero andrà andrà a scemare o comunque andrà molto a diminuire ma io ho iniziato a scrivere per le scienze nel 2003 2004 poi ho iniziato ho aperto il blog la rubrica nel 2005 insomma per almeno dieci anni praticamente nessuno o pochissimi tra i miei colleghi anziani all'università sapevo che io sapeva che io avevo l'attività di divulgazione perché non frequentavano certi ambienti no no assolutamente e questo ti dà un po' l'idea di perché le scienze è una rivista di divulgazione però anche anche la rivista veniva un po' bollata come una cosa bassa che tu devi solo scrivere cioè non c'era la percezione che sono due cose diverse la mia attività scientifica è da una parte la mia attività divulgativa che mi dà un sacco di soddisfazioni è dall'altra e una cosa non non influisce nell'altra ma è un po' la versione accademica dell'avere l'uomo ragno dietro no certo è uguale è uguale poi non ti lascio solo immaginare adesso che anche magari qualche collega in giro per l'Italia mi vede con l'uomo ragno dietro chissà cosa può pensare di me sono arrivato a un certo punto in cui chi se ne frega chi se ne frega ok senti volevo tornare volevo parlare di televisione perché tu hai detto che secondo te la televisione ha questo dovrebbe avere sarebbe avrebbe dovuto avrebbe dovuto sarebbe il caso ancora avesse magari sì però c'è il discorso cioè i miei figli non guardano chi oggi era in piazza non guarda la televisione cioè per televisione diciamo intendo i canali generalisti magari si guarda Netflix ma il punto è quello che se dovesse avere questa impronta divulgativa o comunque questa trasmissione dovrebbe arrivare alle persone che appunto guardano la televisione i tuoi figli di certo non guarderanno io non guardo eccetera recentemente tu hai una certa esperienza innanzitutto in televisione perché tu vai in tv beh mi invitano sì non ho mai avuto una mia trasmissione mi sarebbe piaciuto ma no 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 sì vado ogni tanto negli ultimi negli ultimi tempi ci vado sempre meno devo dire perché non ti invitano più? no no mi invitano ma molto diciamo mi capita che siano abbastanza poco organizzati per cui mi invitano dall'oggi al domani o dall'oggi al dopodomani e mi telefonano e mi dicono ah dopo domani sera abbiamo questa trasmissione e poi venire ma cioè due giorni prima devo andare a Roma per essere lì magari a registrarla la mattina o o se è in diretta la sera vuol dire che comunque devo stare via una notte perché io non sono a Roma insomma a nord di Milano e per cui devo tenere in conto un giorno in più quindi se mi chiami all'ultimo momento dico di no ok poi diciamo che cerco di andare solamente in alcune trasmissioni ecco in altre no perché recentemente non sopporto più i talk show dove si fantastico perché io recentemente ho seguito tutta una polemica della quale non ho parlato peraltro perché mi interessava tantissimo approfondirla però mi ha interessato seguirla sulla trasmissione di Barbara D'Urso ok che fa quella che ha chiamato gli youtuber no a chi ha invitato Panzironi ce l'hai presente? quello di Life 120 certo che ce l'hai presente certo che ce l'hai presente era un modo di presentare il tutto sì ti arriva sul mirto ok no non sapevo non conosco la trasmissione la trasmissione fondamentalmente funziona come un talk nel senso che lui è stato arrivato questo personaggio adesso spiego un attimo chi è e c'erano varie persone a favore contro Panzironi hanno fatto questa sorta di di roba che è una cosa che già a me dal punto di vista scientifico mi mette le bolle ha un senso diciamo televisivamente sì sì ma cioè è come chiamare appunto l'esperto di clima che dice guardate che la scienza dice che c'è riscaldamento e chiamare quello che invece dice no non è vero cioè non è che bisogna sempre dare non devi mettere lo stesso piano no non devo mettere lo stesso piano ecco quello è stato un po' il problema perché lui è stato invitato Panzironi lo dico è un personaggio un po' controverso un po' tanto un po' tanto nel senso che ha ricevuto anche delle denunce ha ricevuto delle denunce è stato è stato attaccato e allontanato dall'ordine dei giornalisti perché lui è un giornalista di fatto non è uno scienziato si è inventato si può dire questa sorta di sistema che si chiama Life 120 che dovrebbe farti vivere a 120 anni lui non ha 120 anni questa cosa è un po' io aspetterei a vedere sì comunque lui vende queste erbe che uno prende insomma sì lui ha anche una trasmissione televisiva io l'ho scoperto anni fa perché andando andando a visitare mia mamma vedevo che la sera era sistematicamente la televisione è sempre accesa su queste tv locali poi ho scoperto che è un network e c'era questa trasmissione dove molto spesso c'era lui poi c'erano anche altri personaggi il dottor Mozzi altri si è creato in cui lui si fa intervistare se sembra nel suo show poi mi dici della Dursso perché non so qual è stata la problema nel suo show che ha lui si fa intervistare da un giorno cioè sembra un giornalista che intervista lui ma in realtà è tutto organizzato cioè però lui dà sostanzialmente delle si è inventato oltre a vendere queste erbe questi integratori queste cose dà dei consigli che dalla comunità medica nutrizionistica consigli dietetici che sono considerati dannosi dannosi perché dici togli tutto sempre so togli tutto cioè sostanzialmente il suo mantra è i carboidrati fanno male devi toglierli tutti perché ti viene questo ti viene quest'altro così via il problema è che non puoi dare questo tipo di di consigli in televisione soprattutto se non sei un medico per cui credo che non conosco i dettagli legali ma credo che le denunce siano per abuso forse cioè per il fatto che tu sei un giornalista non puoi dare delle prescrizioni puoi parlare in generale ma non puoi andare così nel dettaglio più che altro credo che il problema emerga spesso perché quella che lui dice essere divulgazione spesso non è divulgazione ma è promozione dei suoi prodotti che lui vende quindi c'è un problema di contrasto tra l'interesse che dovrebbe essere quello di fare divulgazione invece ti vende le robe comunque la questione è stata appunto che a lui è stato dato molto spazio come dicevi tu è stato intervistato da Barbara Durto sono stati lanciati dei servizi nei quali facevano vedere questi angeli vengono descritti che sono persone che sono guarite grazie al suo metodo eccetera e anche a me è venuto molto da sorridere così il problema è che queste trasmissioni vengono viste da milioni di persone e quelle persone sono una bolla sono una bolla esattamente come la bolla che guarda i miei video che guarda i miei video che non riesce a scalfire esatto che non riesce a bucare se c'è questa questione dell'autorevolezza com'è possibile che queste persone buchino questo muro ed entrino in queste trasmissioni e ricevono tutta questa visibilità perché statisticamente è come io quando dico statisticamente il mio video se io faccio questo succederà che tot persone faranno X è più o meno così statisticamente alcune di quelle persone che hanno guardato quella trasmissione e sono tante perché parliamo di milioni di persone avranno comprato i suoi prodotti avranno creduto a quello che magari non gli succederà niente magari seguiranno smetteranno di mangiare carboidrati e staranno male non lo so non è solo quello poi lui ti toglie ok sì l'esempio ripeto che poi scientificamente è a livello culinario non so niente quindi il punto è come superi il fatto che sembra da una parte sia cittanto tanto timore per i media tradizionali nel prendere una persona considerare l'autorevole mettere in una certa posizione farle dire una certa cosa e dall'altra parte poi finisce che in prima serata in una delle tv commerciali più importanti del paese finiscano persone controverse multate dal garante allontanate dall'ordine dei giornalisti eccetera sinceramente non lo so mi viene banalmente da pensare che una volta Barbara D'Urso l'ha invitato perché lui è già diventato un fenomeno nel momento in cui tu vendi un sacco di copie poi in più lui appunto ha questi strascichi diciamo legali queste cose qua ma anche solamente anche se non avesse avuto questi tipi di problemi il fatto di essere diventato un così un fenomeno stessa cosa è per il dottor Mozzi che anche lui che è la dieta del gruppo sanguigno la dieta del gruppo sanguigno la dieta del gruppo sanguigno te parlarne da cattelano giusto? sì sì la dieta del gruppo sanguigno anche lui è un caso editoriale lui ha fatto questa cosa qua è diventato un fenomeno ce ne sono altri nel momento in cui tu sei comunque un fenomeno la televisione questa televisione quella che cerca gli ascolti ti chiama e mi spiace dirlo ma è la stessa cosa che succede anche per i libri seri perché se tu vai se tu vai in libreria a parte le case editrici quelle dedicate a stampare cazzate che ci sono però tu prendi anche una grande casa editrice trovi il saggio quello scritto dall'oncologo che davvero ha pubblicato centomila articoli che ti spiega tutto e poi di fianco la stessa casa editrice ti pubblica guarire con bicarbonato e limone no capito? ok ma perché e quella sul bicarbonato e limone magari è avvenuto cinquantamila copie per cui a questo punto le case editrici non si fanno dei grossi problemi ma certo perché sono delle aziende che devono guadagnare e la stessa cosa succede in televisione i giornali secondo me dovrebbero essere un po' diversi nel senso che sai c'era la vecchia distinzione tra una volta c'erano le televisioni commerciali quando ero ragazzino io che sono per un po' si sono chiamate sono arrivate le radio perché c'era un monopole anche sulle radio per pochissimi anni si sono chiamate radio libere che era un bel nome perché c'era libertà poi sono arrivate le radio private poi sono arrivate le televisioni private e per un certo periodo c'era la Rai che era considerata comunque più autorevole perché non si abbassava non faceva la pubblicità o comunque era molto ristretta erano un po' bacchettoni da questo punto di vista però era considerata autorevole ed era contrapposta alle tv private alle tv commerciali che erano considerate un po' più basse esatto a un certo punto nella tv si è persa questa distinzione per cui le televisioni adesso tutti fanno fanno odio cercano di beccare nei giornali c'è sempre stata la divisione storica tra i giornali quelli che vorrebbero rimanere autorevoli e che una volta magari erano autorevoli adesso magari si ricordano di quando erano più autorevoli di adesso diciamo così e quelli che invece non lo erano in Inghilterra è molto più chiara la distinzione sono i tabloide quelli dove in terza pagina ti mettono sempre la ragazza in bikini o seminuda ma si sa c'è il daily mirror e poi c'è il times e così via così in vari paesi in Italia quindi c'è ancora questa quest'idea che per alcuni temi per alcuni temi questi giornali cercano di mantenere vorrebbero mantenere un po' di autorità autorevoli ma però sono soprattutto i temi che riguardano la politica perché alla fine alla fine è quello il resto soprattutto in online chi se ne frega per cui io lì mi riferivo soprattutto al giro dei giornali al fatto di essere comunque chiamato per andare per un'opinione su un pezzo mi hanno fatto anche scrivere qualche cosa piccola comunque interviste e così via in televisione nella televisione che c'è adesso non credo si facciano problemi se io chiamo Panzironi so che tutti i suoi fam mi guardano quindi è come il youtube è la stessa cosa ma sì infatti poi se la tirano tanto in televisione come se fossero diversi è così è solo che ragioni su una scala diversa perché poi queste trasmissioni ancora raggiungono tantissime persone che io non raggiungerò mai è proprio impossibile eh sì anch'io non raggiungerò mai però uno se ne fa una ragione certo però è anche una questione di didattica quasi tu pensi che il giornalismo quindi debba avere una sorta di aspetto didattico perché io ne parlo spesso no didattico no la didattica si fa a scuola si fa agli studenti cioè la didattica è una cosa la divulgazione è un'altra il giornalismo è un'altra però aspetta non parlo di divulgazione parlo di ad esempio io ovviamente non parlo mai di divulgazione però parlo di esempio di modo con il quale le persone dovrebbero approcciarsi alle notizie alle cose i ragionamenti che dovrebbero emergere questo sì pensi di sì? sì questo è io lo chiamo fornire gli strumenti per riuscire a raccapezzarsi nel mondo dell'informazione di adesso dove siamo circondati e bombardati ogni minuto da decine le informazioni dobbiamo decidere nel giro di pochi secondi se è una cavolata oppure se posso dedicare vale la pena dedicare due minuti per vedere approfondire ed è una decisione che noi dobbiamo fare ogni volta che sentiamo qualche cosa quella sul gin tonic io sento il gin tonic è una cavolata però se mi dicono una roba di un tema di cui non so nulla di economia o di tasse o magari appunto una signora che si sente ah 500 persone scienziati hanno scritto detto che il global woman cioè se non ha gli strumenti culturali e il tempo per andare a indagare come fa quindi sì io sono assolutamente favorevole a questo tipo di approccio non so nel modello di business perché poi alla fine arriviamo sempre lì perché i giornali devono vendere come si riesce a incastrare soprattutto nei giornali di carta che però sinceramente anche io acquisto sempre meno ma pochissimo io ormai come molti altri l'informazione la prendo online e anche lì però cerco di selezionare le fonti e degli abbonamenti tu a qualche giornale? sì ok al post ok anche io il post è particolare perché il post ha aperto un Patreon fondamentalmente il post è particolare tra l'altro appunto qualche giorno fa sono stato a Faenza hanno fatto una sorta di mini mini festival mini raduno c'erano alcuni giornalisti del post c'era c'era Luca Sofri c'era Francesco Costa mi hanno invitato io ho fatto una mia piccola cosa come amico del post loro sono un esempio di come si potrebbe fare di come si riesce a fare un qualche cosa che si sostiene anche economicamente è chiaro che sono un giornale online che ha delle limitazioni che ha dei limiti e loro lo ammettono una volta ho sentito un'intervista era un dibattito con Sofri e lui diceva a me piacerebbe poter pagare qualcuno che fa un'inchiesta perché loro soprattutto prendono sono molto bravi nel selezionare le notizie quelle che scontano altri giornali li costruiscono trovano cose che in altri posti non vengono mai citate però lui diceva noi non abbiamo mi piacerebbe poter pagare qualcuno e dire vai a fare un'inchiesta davvero un'inchiesta sul campo quindi vuol dire che io devo pagare qualcuno per un mese per andare da qualche parte e scoprire chissà che cosa non ho la struttura quindi il nostro giornalismo è chiaramente limitato delle risorse però comunque fanno un lavoro molto più che decoroso molto puntuale molto attenti quando perché capita anche loro sbagliano lo ammettono cosa che invece non succede a me ma a tantissime altre sai che Twitter è un po' la bolla dei giornalisti dei politici e poi ci sono un po' di altre persone che a turno perculano i giornalisti dei politici ma insomma è una bolla un po' chiusa molto autoreferenziale ma se sei solo dentro lì non te ne accorgi mi capita quindi io intanto ci sono mi è capitato di ma anche ad altri di far notare che un certo articolo di un giornale online anche di quelli famosi era falso proprio sbagliato così cosa fai? lo fai notare per via TIT magicamente dopo non so mezz'ora un'ora o sparisce cancellano oppure lo modificano ma senza chiedere scusa no certo in silenzio in silenzio sono sempre gli altri quelli che sbagliano e invece il post lo fa e poi fa quindi sì sono abbonato anche se come tu ben sai non è che hai delle notizie in più no 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 è una sorta di in realtà in realtà hai il podcast di Bordeaux sì hai una serie in via e vorrebbero agire sì però di fatto sì hai ragione è un Patreon è un Patreon di una società ecco credo sia una società quindi diciamo questo discorso poi alla fine torna anche un po' ai problemi che tu avevi avuto con il fatto quotidiano no? io mi ricordo che ai tempi tu avevi avuto un problema col blog pensa che ogni tanto vado in giro a fare delle conferenze e mi presentano ancora come blogger sì come blogger del fatto quotidiano no cioè non più ce l'ho abbandonato ormai in molti in 2013 credo ma sì perché all'inizio era volevano creare un come molti altri giornali no? era l'epoca dei blog associati ai giornali erano già nati negli Stati Uniti in tanti altri paesi e quindi volevano diciamo rimpolpare un po' creare diciamo da zero la parte scientifica comunque tecnico-scientifica che era a zero quindi loro si sono sempre occupati di politica ovviamente no? sono nati sull'onda di tutto quel diciamo movimento travaglio tutte le cose la mafia Berlusconi tutto un giro molto di interesse molto politico a un certo punto volevano un po' ampliare e quindi mi avevano chiesto avevo incontrato Peter Gomez a un evento in Sicilia credo e mi aveva chiesto se volevo così contribuire ovviamente gratuitamente ma va bene e quindi ho iniziato a scrivergli degli articoli delle cose sempre molto molto discursi perché poi io sono anche un po' un provocatore devo dire che mi piace anche e quindi mi stuzzicava l'idea di andare a parlare perché mi ero prefisso di parlare di biotecnologie di OGM di cose un po' controverse specificatamente di quello in un pubblico diverso in un pubblico diverso ma sapevo che era un pubblico quasi totalmente ostile ma va bene cioè va bene è stata anche una buona palestra va bene la cosa quindi aveva comunque generava molta discussione loro erano contenti perché generava click perché interessava questo ma mi interessava perché riuscivo a rompere la mia bolla io ho sempre cercato di rompere le bolle non voglio stare nella mia bolla vado anche a infilarmi nella fossa del leone perché così mi stimola anche diciamo la discussione non quella cattiva ma quella costruttiva magari anche un po' insomma sanguigna però senza arrivare alle offese però mi interessa quindi quella era una buona palestra nel corso degli anni però di pochi anni hanno visto che il modello funzionava hanno cominciato a tirare dentro chiunque sostanzialmente e quindi mi sono trovato di fianco a medici c'era un medico che però era un antivaccinista quindi o altre persone che dicevano delle sciocchezze sciocchezze scientifici cioè fattuali sul risparmio energetico su altre cose e quindi niente io mi sono sentito molto a disagio perché da una parte diciamo il il giornale diceva quelli sono i blog quelli sono blog distinguiamo il giornale è una cosa i blog ognuno può dire quello che vuole anzi siamo per il pluralismo tutti possono dire qualsiasi cosa il fatto è che poi erano fondamentalmente tutt'ora in tutti i giornali sono indistinguibili quindi quello che succedeva è che c'era il mio articolo e poi sotto quello del medico che diceva no ma guardate che i vaccini contengono che fanno venire l'autismo cose di questo genere e quindi io non volevo dare credibilità col mio essere su quella piattaforma anche queste persone perché non cioè nella scena un conto è una discussione politica in cui le opinioni sono legittime e poi bisogna argomentarle per carità però non c'è non ci deve essere una sorta di censura preventiva tranne nei casi in cui uno dice vuole l'apologia del fascismo cose di questo genere va bene in campo scientifico no cioè c'è la comunità scientifica lavora in una certa maniera e così il giornalismo scientifico lavora con il stesso sistema di valori cioè non tutte le opinioni sono uguali e sono meritevoli di essere riportate discorso che facevi tu prima quindi le opinioni sono accettabili se sono basate su dei fatti accertati e condivisi dalla comunità scientifica non ti puoi svegliare tu la mattina e dire secondo me è così secondo me no cioè non lo puoi fare e mentre tu puoi svegliarti la mattina e dire adesso voglio tassare le merendine è legittimo nessuno te lo può impedire non puoi svegliarti la mattina e dire no ma guarda che secondo me i vaccini fanno venire i beriberi non lo so qualsiasi cosa perché perché non hai delle prove o comunque non dico magari prove ma degli indizi che siano perché ci sono delle cose che sono ancora discusse della comunità scientifica va benissimo e quindi non solo la scienza funziona così per cui tu non puoi pubblicare sulle viste scientifiche poi che le vacate vengono pubblicate allo stesso ma c'è un filtro minimo iniziale la stessa cosa vale anche per il giornalismo e la divulgazione scientifica è una cosa non scritta ovviamente non è obbligatorio però la comunità di chi parla di scienza segue le stesse da questo punto di vista gli stessi valori della scienza nel momento in cui invece tu accetti persone che si mettono al di fuori automaticamente della comunità scientifica perché dicono cose che non sono accettate dalla comunità scientifica però permetti a qualcuno di raccontarle come se facesse parte della comunità scientifica di fianco c'è anche Bressanini lì dentro e c'erano anche altri e allora a questo punto inganni il lettore certo e quindi io mi sono sentito molto in imbarazzo perché non volevo dare con la mia presenza lì una credibilità scientifica è come appunto è come se a un convegno di astrofisici andasse a parlare un astrologo no non funziona cioè nessuno ti impegna non è una questione di libertà di parola tu puoi cioè vuoi farti l'oroscopo fatelo ma non non puoi pretendere di andare a parlare in un convegno scientifico dove si seguono delle regole che la comunità si è data con fatica nel corso di tanti secoli perché credo che ci sia anche una questione di fiducia alla fine il rapporto tra le persone comuni diciamo che non si occupano di non scienziati chiamiamoli così e gli scienziati è anche una questione di fiducia perché prima come si chiamava Sandro che parlava dell'isolamento eccetera e lui è andato a cercarsi le tue pubblicazioni ad esempio la maggior parte delle persone questa cosa non la farà mai non sa neanche come farlo e anche se lo fa non ha poi gli strumenti per comprendere certe pubblicazioni cioè se io vado a leggermi le cose che tu hai scritto io probabilmente non le capisco quindi effettivamente io mi devo fidare non tanto di te ma della struttura che ti circonda che è quella della comunità scientifica esatto e infatti questo è uno dei problemi per cui sono molto pericolosi gli scienziati o i medici che quando parlano o scrivono o vanno in televisione danno il loro parere e non invece quello della comunità scientifica perché molto spesso anche delle bufale nascono e si propagano perché qualcuno va lì e dice quello che gli passa per la testa che è legittimo va bene ma un conto è dico vabbè questa è la mia opinione non ho dati però potrebbe essere così un conto è dire no guarda io mi faccio portavoce di quello che la comunità scientifica nel corso degli ultimi vent'anni con 40.000 pubblicazioni è arrivata a queste conclusioni parziali però ti dico questo ti dico quello che sappiamo ti dico quello che non sappiamo e quindi è veramente un danno quindi un medico o un pediatra che fa propaganda contro i vaccini o altre cose di questo genere vengono come dici tu percepite da chi ascolta che non si prende la briga di andare a vedere se i famosi 500 che hanno firmato la lettera se sono climatologi o se sono sociologi perché va bene la sociologia è importante ma non ti metti a firmare una lettera che dici che secondo te non esiste riscatamento globale sei un sociologo sono un chimico non mi metto e quindi è assolutamente un problema di fiducia questo infatti è una delle cose che io spiego dico sempre anche nei miei video in quello che scrivo io quasi tutti i miei colleghi lo fanno abitualmente se ce ne danno la possibilità dove scriviamo mettiamo le fonti le fonti sono importanti per due motivi il primo è come dici tu perché c'è qualcuno specialmente se hai un audience abbastanza elevata c'è qualcuno che è in grado di andare a leggerla la fonte la capisce e se tu la riporti male ti fa il culo giustamente giustamente e se tu invece se io non la metto la fonte perché nei giornali in giornali italiani c'è questo brutto vizio di non mettere le fonti non solo nel campo scientifico ma in altre cose in tutto in tutto ma anche le cose economiche non si danno le fonti è una cosa vergognosa gli unici link sono quelli al tuo stesso giornale in un altro articolo è una cosa vergognosa io invece metto il giornalismo scientifico la divulgazione scientifica dove è possibile tecnicamente diciamo perché a volte tecnicamente magari non è così facile ma dove si può e online si può si mettono le fonti prima di tutto uno ad occhio guarda la qualità delle fonti io nell'articolo che ho messo oggi che è un po' condito di cose personali un po' di dati poi non era un articolo che voleva fare chissà che cosa uno oggi mi ha scritto ho detto tutto l'articolo ma non ho capito il punto e allora e allora niente ho voluto far riflettere le persone non è che devo sempre fare chissà che cosa però dentro ci sono tutta una serie di link che io ho filtrato quindi ho messo un articolo di Nature uno di Science ho messo dei dati ufficiali della comunità europea non ho messo Imola oggi capisci quindi già il fatto di uno a occhio un po' lo sa uno vede e dice vabbè Nature tutti sanno che Nature voglio dire prende anche lei le cantonate però insomma è più credibile da signoraggio poi appunto c'è il fatto che io metto le fonti tutte le sai qualcuno di sicuro sa guardarle e tu che non lo sai fare però sei consapevole che qualcuno mi può far fare una figuraccia se io le riporto male per cui tu hai un po' più di fiducia in me perché dice vabbè lui ha messo le fonti nessuno sotto si è messo a commentare dicendo ma guarda che quella roba dice esattamente il contrario e quindi è un modo per aumentare la fiducia nelle persone perché io sono ben consapevole che pochissimi delle persone che raggiungo vanno a vedersi le fonti ma lo so ma continuerò a metterlo cioè non è che dico vabbè tanto lo guardano in pochi chi se ne frega no lo metto per quello perché io do offro diciamo la possibilità a qualcuno di sputtanarmi ma per carità gli errori capitano mi è capitato anche a me e li corrego e lo dico sto molto e questo è uno dei motivi per cui sto molto molto ben attento prima di citare qualche cosa non cito mai solamente un articolo vado a vedere gli altri vado a vedere cosa è successo dopo una costante delle narrazioni bufalare spesso in campo scientifico medico ma anche nutrizionistico e che fanno riferimento a volte ad articoli veri ma usciti non so negli anni 30 ah ok sì lo scienziato svizzero nel 1938 ha scoperto che l'articolo è vero poi dal 1938 adesso è successo cambia tutto no capisci per cui questa è un'altra è un'altra cosa quindi il fatto di semplicemente di dare le fonti secondo me aumenta la fiducia nelle persone che ti seguono secondo me è una cosa perché come dici tu non possiamo pretendere che le persone diventino esperte di fisica nucleare di medicina di virologia di chimica di cosmetici di politica economica cioè non si può non si può e quindi c'è sempre una mediazione cioè non è vero che siamo una società che non è più mediata c'è sempre una mediazione il problema è che a volte viene mediata da dei fenomeni da circo e non da chi invece è meritevole della fiducia e un po' la colpa è delle persone che non chiedono le fonti cioè come dici tu non chiedono le fonti non sono abituati a chiedere a richiedere a pretendere e perché nessuno gliel'ha mai detto perché perché arriviamo da un'epoca dove l'informazione era a senso unico tu leggevi il giornale non è che ci potevi scrivere sotto guardavi la televisione e basta quello che il giornale diceva la tv diceva era quello era quello ma anche un libro se ci pensi è la stessa cosa adesso no adesso c'è la possibilità però è una cosa che va va guidata va spiegata e non vale solo per le cose enormi e grandi vale anche per le piccole cose parliamo delle piccole cose parliamo dell'influencer perché per me è fantastica questa cosa che tu fai questa battaglia che tu fai contro le influencer un po' come Don Quixote come è che le chiami le fuffi influencer fuffi influencer ma sì ma non parli lì c'è una questione di responsabilità credo io ormai io sto diventando monotematico e responsabilità io non dico la parola responsabilità una volta a video è un problema ma è giusto ma è corretto sì allora lì c'è l'idea spieghiamolo magari perché chi segue i tuoi video su YouTube magari non frequenta Instagram non frequenta Instagram tutti sanno che su Instagram c'è proprio un mercato di influencer che vendono prodotti parascientifici che vendono prodotti che vendono prodotti in realtà molti e molte sono più donne ma ci sono anche degli uomini che sono su Instagram sono anche su YouTube hanno canali anche abbastanza grandi a volte non grandi come il tuo ma insomma hanno magari 100 200 mila però lavorano soprattutto su Instagram perché adesso il mercato pubblicitario dell'influencer marketing è su Instagram anche se avrai visto che Instagram sta per uccidere tutto o comunque rendere molto difficoltoso il mercato per certe cose vedremo quelle dirette ai minorenni quelle dirette ai minorenni sì che però si sono registrati come minorenni sì ma infatti Facebook è sempre una campagna particolare vedremo potrebbe essere comunque c'è inizia a esserci la percezione del fatto che vendere prodotti di un certo tipo può essere un problema per alcune persone sì il punto è che quindi parliamo di tè dimagranti sì tè o prodotti dimagranti o addirittura prodotti che vengono vengono spacciati per per curare delle malattie o alternativi ai pasti sì beveroni alternativi ai pasti cose che possono possono creare dei problemi sanitari se diretti a persone che magari hanno già delle complicazioni oppure dirette ai minorenni o persone che hanno che banalmente non sanno come come nutrirsi correttamente pensano che bersi in beverone tutti i giorni tre volte al giorno non sia esattamente la stessa cosa che mangiare perché ti dicono eh ma è fatto con la frutta no mangiare una mela non è la stessa cosa che prendersi la polvere disidratata di mela il punto è che instagram in generale tutti i social sono nati così è stato un po' il far west per cui come tutte le queste cose come tutte le piattaforme anche youtube sì sì non regolamentato youtube ha avuto tutta una serie di mazzate però ti ricordi l'apocalypse tutta una serie di cose per non direttamente cioè lì era il contrario lì erano gli inserzionisti che si sono lamentati dei video invece instagram è nato un po' in sordina è nato un po' per i viaggi per la moda per il cibo nel momento in cui su instagram si sono così formate delle comunità di centinaia di migliaia di milioni di persone che seguono personaggi a volte che sono nati proprio su instagram e le aziende hanno cominciato a chiaramente a invadere il mercato lì ci sono delle influencer che hanno una loro etica e lo dicono e dicono no io certe cose io il tenima grante o addirittura quelle che chiamano le cheat caps cioè l'idea è che tu stai facendo la dieta no però ok la cheat caps sì sì è una cosa che è barare cheat nel senso sì sì barare nel senso ci fanno dicere ah vado a fare di solito succede così andate sul mio video su youtube perché si appoggiano su youtube ho fatto un mukbang lo chiamano ah è quella roba dove la gente mangia tantissimo mangio 10.000 kg di calorie però prendo le cheat caps che dovrebbero che sono delle pillole sempre delle stesse aziende che impediscono al mio corpo di assorbire le calorie per cui non ingrasso cioè io posso andare quindi vanno dirette diciamo no in realtà non è vero sì 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 in realtà non è vero quindi è una cosa anche diseducativa dal punto di vista dell'alimentazione soprattutto diretto a persone che magari hanno difficoltà che vogliono dimagrire o magari ha delle minorenni che sono anoressiche cioè che hanno una serie di disturbi alimentari cioè stai offrendo una scorciatoia falsa perché poi vai a vedere pubblicazioni scientifiche non c'è niente di vero c'è niente di vero però stai venendo l'illusione che tu ti puoi strafogare di sushi e di pizza di qualsiasi cosa e poi tanto prendi la caps ma è una cosa è una pillola sì una pillola una pillola una pillola prodotti di questo genere che sono eticamente cioè per carità sono ammessi sono in vendita non sono non è la droga che è illegale da vendere però sono eticamente riprovevoli e la cosa peggiore secondo me è che se tu vuoi vedere la confezione di questi di questi prodotti non c'è scritto tutto quello che invece le influencer spacciano cioè le influencer vanno molto oltre per riuscire a vendere perché poi hanno il codice sconto certo e quindi guadagnano l'azienda il codice sconto è un controllo che l'azienda ha di quanto tu sei efficace perché se le tue followers non usano il tuo codice sconto usano quelle della tua concorrente al giro dopo finanzieranno di più la tua concorrente gli daranno delle condizioni migliori così quindi molto spesso si trovano a dire delle cose ma veramente secondo me da codice penale che non ci sono scritte quindi è paradossale che l'azienda diciamo ha il culo parato dicono noi non abbiamo detto niente non abbiamo detto niente come dicevo ci sono delle influence che si rifiutano per loro diciamo motivazioni etiche di pubblicizzare certi prodotti e ti dicono noi scegliamo i prodotti che pubblicizziamo prendiamo i soldi mettiamo l'ad tra l'altro poi adesso da quando l'autority per cos'è la Gcom l'autority il garante per per la pubblicità insomma le ha mazzolate stanno più attenti ma prima non mettevano neanche ad esatto esatto io ho ascoltato ci sono ancora forse su youtube delle dirette salvate o dei video di alcune influencer che dicevano bellamente ma se io io metto ad chi mi segue capisce che io sto facendo una pubblicità e quindi magari non si fidano più di me ho capito ma insomma sono le basi della fiducia ma ci mancherebbe ad infatti anche lì ci sono delle aziende serie lo so perché le ho contattate per avere un po' di informazioni volevo capire quanto girava quanti soldi chiedevano e mi dicevano che alcune aziende richiedono l'ad perché non vogliono passare per quelle altre invece altre aziende di altri prodotti chiedono esplicitamente alle influencer o agli influencer di non metterlo e sai in un post la sgami la pubblicità il post rimane lì certo ah dici invece nelle storie nelle storie no le storie scompaiono è una cosa veloce oppure ci sono i trucchi tipo metto il post senza l'ad ok io sono lì faccio altro però c'ho qui il mio tè dimagrante coconut fragola guarda come la mia coscia ok senza ad il giorno dopo vado che ormai la foto è passata faccio editing e lo aggiungo dopo quando ormai la gente l'ha già guardata quindi se qualcuno c'è qualche controllo sono a posto per esempio però in realtà l'effetto diciamo naturale l'effetto non ti sto facendo la pubblicità guarda che mi piace davvero il tè alla fragola diciamo ha avuto il suo corso quindi tutta una serie di trucchetti probabilmente abbastanza disgustosi sì che è proprio una questione di trattare i tuoi follower come dei deficienti a te non importa nulla in realtà come merce come merce come merce tu vali quanti follower non so se hai visto ma oggi almeno a me Instagram l'ha notificato oggi che non mostrerà più il numero di like l'ha già coperto da oggi anche a me gli ha tolti io pensavo che io per qualche ragione è stato scampato invece mi ha tolti e devo dire che io sono contento di questa cosa non me ne frega niente però attenzione perché io Instagram lo uso in modo un po' diverso sì 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 certo se mi rito io esserlo su YouTube potrebbe io non sono molto fissato sui numeri ma potrebbe essere un problema nel senso che mi sembra che perderei un po' il senso di quanto i video stiano andando bene o male beh tu però potresti comunque vederlo io posso vedere chi mette il like se tu vai su un post oggi prova a fare un post sulle storie non lo so se tu vai a fare un post c'è scritto tot cioè se tu lo vedi io vedo un post di un altro e leggo ciccio formaggio e altri tuoi amici hanno hanno messo il like a questa foto però una volta ti dicevano 937 persone però se tu vai sulla tua foto e clicchi lì ti viene fuori esattamente il numero quindi il numero tu lo sai anche perché ovviamente se tu sei un influencer o devi collaborare con l'azienda tu devi poter fornire quei numeri quindi quello rimane sì sì quindi è semplicemente una questione per gli altri youtube per adesso ha solo ha solo non ho capito si ha arrotondato ha arrotondato a mille quindi se invece che scrivere Alessandro Breaking Italy ha 570.421 c'è una c'è taglia taglia cioè non ho capito il senso credo che sia una cosa più stilistica che altro però comunque tu potresti continuare a vedere in quel caso sì allora no a me non importa niente è sicuramente vero che almeno per alcuni influencer scusate per alcuni youtuber è importante far vedere che il loro video spacca perché soprattutto nelle fasci d'età più basse c'è un po' l'emulazione quindi se un video sta andando bene se tutti lo guardano allora lo guardo anch'io perché lo guardano tutti ma meglio allora meglio che ci sia questa cosa così evitiamo questo effetto continuo ma sai tu sei meglio di me che comunque le persone l'età media che è su youtube è molto bassa è molto bassa certamente ma infatti io sono lì apposta perché io aspetto che crescano quella era la mia idea è che adesso sono passati dieci anni io ho iniziato a fare questa roba dieci anni fa quanto iscritti avevi dieci anni fa dieci anni fa ne avevo zero adesso ne hai più di mezzo milione cioè mezzo milione prova a immaginarli davanti a te no certo sono tantissimi ogni tanto questa è una cosa che mi capita quando appunto ho detto che alcuni mi contattano ma immagino anche te ma voglio iniziare a fare divulgazione non scientifica cioè chi mi ha detto che voleva iniziare a fare divulgazione economica voglio spiegare come funzionano i mutui come funzionano gli interessi ma cazzo fighissimo io non sono a mazzo oppure chi vuole raccontare cose di architettura di virologia c'è il spazio per tutti molti mi chiedono consigli e io gli do gli dico per quello che posso posso aiutare poi magari l'incontro dopo non so tre mesi oppure mi scrivo mi dice eh però c'ho solo mille iscritti e gli dico ma ragazzo mio ma prova a parlare a mille persone davanti ma sono un sacco di persone mille cioè mille è un numero enorme stai parlando a mille persone cioè stiamo un po' ribaltando l'idea che appunto mille sia un sacco di persone ripeto confrontalo forse perché io lo confronto automaticamente col pubblico che legge i libri cioè mille persone che comprono un libro è un libro decoroso tremila è un buon successo quindi se un video ha fatto tremila visualizzazioni ma cavoli ma va bene hai raggiunto tremila persone come cavolo in che altro modo le raggiunge tremila persone probabilmente è una questione del fatto che il libro te lo immagini fisico quindi sono tremila persone o mille persone che acquistano un libro ce l'hanno nelle mani e quindi te lo immagini così mentre il video è molto più no no lo so però è sbagliata la prospettiva è sbagliata cioè tu hai 500.000 tu dici ci speravo l'hai detto come per dire vabbè ci speravo però non sono riuscito ma ci sei riuscito cioè io sto crescendo io adesso ne ho 300 boh 20.000 una roba di questo genere quando ho iniziato all'inizio del 2017 ne avevo 2.000 2.000 che erano lì perché io il mio canale l'ho aperto nel 2009 quindi un sacco di tempo fa e ci mettevo le conferenze che facevo in giro per l'Italia quindi queste cose da un'ora e mezza adesso all'epoca non erano di moda cioè i video i video che duravano un'ora e mezza non funzionavano però spesso non so li facevano vedere a scuola ma gli studenti vabbè quindi avevo 2.000 persone che in qualche modo boh si erano iscritte avevano visto delle mie conferenze ma non avevo mai fatto video quindi io ho iniziato a gennaio del 2017 ho fatto un video se adesso lo vedo mi vergogno Scraus ho montato male quello vale per va bene ma lo lascio lì ma è giusto ed avevo 2.000 adesso ne ho 320.000 e sono convinto anche se sono passati solo due anni e poco più che comunque pian piano c'è sempre qualcuno che passa dal vedere i miei contro te io non ho niente contro i miei contro te o altri diciamo contenuti per bambini che passano a contenuti più adulti io è una cosa che mi riempie di felicità un sacco ho dei ragazzi delle scuole medie che mi seguono lo so perché mi scrivono mi scrivono su Instagram di solito e mi dico ti ho scoperto su YouTube e guarda mi piace un sacco quello che fai mi fai piacere la chimica e cose via faccio la prima media la seconda media cioè giovanissimi giovanissimi per cui io ci credo magari mi illudo però ci credo molto in questa cosa qua di sicuro è un bacino di persone che ovviamente cresce e sono convinto che se c'è l'offerta di materiale culturale generico non necessariamente scientifico una parte di questi andrà a leggersela insomma perché perché di sì e io ho molta fiducia appunto nelle nuove generazioni nei giovani bisogna bisogna offrirgli del materiale che è ancora scarso chi c'è oltre te per esempio che fa quello che fai tu su youtube beh stanno emergendo stanno emergendo magari con una cosa un po' diversa c'è Gio Pizzi per esempio che fa delle cose magari non dico Moris perché lui ha un suo stile un po' un po' perché è molto importante che poi ognuno lo faccia a modo suo ognuno lo deve fare a modo suo anche se comunque uno può iniziare banalmente copiando e poi evolve ce ne sono altri quindi io la vedo come insomma come una cosa positiva io mi ricordo ancora uno dei primi video che ho visto di di Uesa si parlava di te si non mi ricordo come si chiamava tipo shy come Ulisse qualcosa di genere si era molto bello il video ecco me lo dico da solo era molto bello era bello era un bel video gliel'ho detto anche a Riccardo quando l'ho visto e lui tra l'altro appunto lui è iniziato parlando di filosofia commenti adesso lui anche lui si è buttato molto sul commento politico infatti l'ho scritto basta parlare basta parlare no basta parlare basta parlare di Salvini di Maio che vale torna a parlare anche di cose un po' però lui adesso non so quanti 90.000 iscritti 80.000 io sono molto poco attento agli iscritti quando vado sui tool cioè parlando di quelle cose e mi ricordo appunto che c'era questo questo video che sostanzialmente diceva era stupito del fatto che un tuo video fosse finito in tendenza e la tendenza era il regno delle cose per bambini non so se era ancora l'epoca di Minecraft o forse quello precedente non mi ricordo cosa fosse insomma comunque era roba imparzialmente ancora adesso in larga parte però lui diceva il fatto che ci sia che qualcuno che popino dei video sì che popino che qualche ragazzino è iniziato e normalmente era lì per guardarsi i video di Minecraft che per carità va benissimo anche i miei figli giocavano a Minecraft però vede quella roba lì magari lo vede oggi dopo domani poi ne vede un altro e poi magari prima o poi lo schiaccia poi se è uno che ha dieci anni però magari un po' più avanti poi se lo ricorda per cui infatti anche io ogni tanto quando finisco in tendenza mi piace un po' ovviamente c'è la solleticazione dell'ego che c'è in tutti noi però c'è anche questa cosa qua razionale che dico cavoli sono arrivato sempre al discorso prima della bolla magari buco la bolla la buco di sicuro perché lo vedo lo vedo poi io sono un maniaco dei dati dei numeri controllo tutti gli analytics il meccanismo è quello io faccio un video ogni in teoria se riuscissi vorrei farlo ogni due settimane poi non sempre ci riesco però quando passa un bel po' di tempo tra un video e l'altro quindi diciamo la curva si appattisce delle visualizzazioni poi a un certo punto faccio un video e vedo che salta su se va in tendenza salta su ancora di più quello che succede è che come succede a te nel primo giorno le visualizzazioni hanno il picco poi cominciano a decadere di quel video lì quello che succede però è che nei giorni dopo aumentano le visualizzazioni degli altri video non mi aumentano gli iscritti immediatamente no e quindi quello che vedo quello che interpreto io da tutti i dati è che qualcuno che non mi conosceva vede un video ha visto il mio video sulla conservazione delle uova al supermercato ma che è sta roba va a vedere lo guarda e dice va a vedere qualche altro mio video va a vedere un video sull'acqua minerale va a vedere il video sulla dieta del gruppo sanguigno e poi decide di iscriversi perché io vedo che le iscrizioni si aumentano anche nei giorni successivi e non mi conoscono non mi conoscono cioè non sanno chi sono può anche essere che sia youtube che gli consiglia sì 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 no no quello di sicuro però la scelta di iscriversi è loro no no di sicuro youtube ovviamente l'algoritmo youtube quando vede che un video sta andando lo promuove e infatti io sfrutto questo meccanismo proprio per bucare la bolla ed è anche uno dei motivi per cui cerco di trattare argomenti abbastanza diversi tra i loro cioè una volta c'è una cosa più diciamo di tipo nutrizionistico un'altra volta invece faccio una cosa un po' più divertente un'altra volta mi diverto a a sbufalare qualcosa o faccio degli esperimenti perché sono tutte cose che mi piacciono devo solo scegliere quale delle cose che vorrei raccontare e mettere lì ma non mi focalizzo e non mi fisso sempre sulla stessa cosa questo è il motivo per cui molti mi dicono ah guarda che è uscito questo video perché non lo sbufali come hai fatto no perché non voglio fare il format Bressanini sbufa la X cioè perché poi rimarrei rimarrei prigioniero di questa di quella bolla lì invece provo a fare cose cose diverse ok senti siamo in chiusura quindi volevo farti una domanda veloce e una velocissima ormai sono già passate due ore ah sì fanno tutti così innanzitutto volevo chiederti in conclusione del discorso che facevamo prima sull'influencer che non si prendono la responsabilità di quello che fanno e quindi promuovono cose infatti io spero che l'autority arrivi martellando pesantemente pensi che dovrebbe essere più normata questa situazione sì sì l'autority ha già ha già ma all'inizio era per la questione dell'ad 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 credo che l'autority abbiano diciamo non tanti poteri per agire e dire no tu non puoi pubblicizzare quella roba lì ok però come dicevi tu prima ci potrebbero essere del almeno una sorta di linee guida di comportamento su cosa dire cosa non dire cosa sei autorizzato a dire perché di sicuro se il prodotto cioè banalmente potrebbe essere tu non puoi dire niente che non sia scritto su certo il prodotto quali siano i cavilli o gli strumenti giuridici per poter far questo questo sinceramente non lo so io conto molto di più sul diciamo sulla ribellione delle persone è chiaro che il numero è piccolino però molto spesso da abbiamo visto abbiamo iniziato così da una cosa piccola può iniziare una cosa grande io ma anche tutti i miei colleghi e amici che fanno questa cosa su Instagram battiamo molto su questa cosa cioè quando ci sono dei post sulle storie non lo puoi fare o meglio lo puoi fare ma nessuno vede è complicato però quando fanno i post perché normalmente le aziende ti chiedono storie e un post storie e un post poi a seconda di quanti followers hai ti danno o il solo prodotto oppure 2000 euro 5000 euro 10000 però il post nel momento in cui tu fai un post allora e tu dici che quel prodotto lì ti detossina allora io dico sempre mi mandano un messaggio hai visto cosa dice questa influenza allora scrivete sotto dammi le prove cortesemente puoi dimostrarmi dove è scritto hai detto che prendendo questa cosa mi faccio mi dimagrisco 7 chili una volta ho letto una roba potete dimagrire 7 chili 7 chili in una settimana senza perdere una taglia di seno che per le donne ah certo ok datemi datemi le prove allora a questo punto qualcuno ovviamente cancella questi commenti allora l'unica cosa che puoi fare smettete di seguirla cioè non dategli il potere smettete di seguire quindi è proprio un discorso culturale sì io posso fare solo un discorso culturale in altri casi non cancellano e cercano di arrabbattarsi con una spiegazione che però è palesemente una roba abborracciata e quindi sostanzialmente fanno una brutta figura e tutti quelli che leggono quel post lì capiscono che è un'azienda è un influencer poco seria ed è chiaro che è una cosa è una cosa lenta molto molto lenta però bisogna anche lì far capire alle persone che si può fare qualche cosa per difendersi perché a te non fa vagamente paura che sia la politica interessarsi a queste cose perché c'è sia una domanda che in che senso allora innanzitutto Guelfo Ghirardoni ti chiede cosa ne pensa di quei personaggi politici che utilizzano volontariamente tesi antiscientifiche solo per mettere paura e istigare chi non può capire da solo certi argomenti io da questa domanda volevo partire perché tu recentemente hai fatto un tweet o qualcosa del genere su l'attuale ministro della cultura dell'istruzione dell'istruzione giusto che ha invitato Vandana Shiva Vandana Shiva è un personaggio su cui io mi ero già così speso negli anni scorsi nel blog per mostrare come avesse delle posizioni assolutamente antiscientifiche diceva e tuttora dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra è un personaggio italiano parla in italiano no Vandana Shiva è indiana è indiana è indiana è un attivista indiana e tra le altre cose che tra le altre battaglie che ha fatto ma è venuta anche in Italia quando c'era tutta ecco lei è stata una di quelle che è intervenuta durante la crisi la crisi tuttora di Xilella in Puglia è una di quelle che ha sostenuto che fosse tutta una panzana che non era vero che c'era diciamo che lei si infila molto ovunque vede così l'industria il potere le multinazionali ah c'è sempre il discorso ok lei è stata una di quelle che ha iniziato a raccontare in pubblico che 250.000 contadini indiani erano morti suicidati a causa degli OGM la storia era che loro hanno inventato gli OGM della cattiva Monsanto che comunque non è uno stinco di santo ma comunque questo cotone OGM è fallito e loro non avevano più soldi per vivere quindi si sono suicidati 250.000 poi in realtà io sono andato a vedere ho scritto due articoli sul fatto quotidiano ok sono andato a prendere le fonti sono andato a vedere che non c'era assolutamente nessuna correlazione il numero di suicidi andando a prendere fonti indiane sono andato a leggere degli articoli delle Indian Times e così via che parlavano di questo fenomeno i suicidi esistono davvero ma non c'entrano niente con gli OGM che sono stati introdotti dopo ok c'è un problema di fallimenti di raccolti ma di raccolti di tutti i tipi c'è un problema comunque di suicidi di persone in un continente enorme con tutti i problemi che hanno più di un miliardo di persone quindi magari di 250.000 ci sembra un numero elevato era un numero cumulativo ovviamente ma in realtà se andavi a vedere le statistiche del governo indiano vedevi che i suicidi all'interno del gruppo degli agricoltori generici non era diverso da quello dei pompieri quindi lei ha preso una cifra vera l'ha gonfiata perché poi a mano a mano che andava ogni anno ne sommavano per accusare appunto gli OGM questa cosa ha avuto un enorme eco più che in India dove non è molto molto ben vista diciamo così ma nell'occidente perché si è inserita in un movimento che vedeva gli OGM e tuttora viene considerata appunto una credibile quindi io quando ho visto che è stata presa dal dal ministro per fare un osservatorio pagata quindi dal ministero si si ha proprio un mandato pubblico ho fatto un tweet dicendo ma che roba è tra l'altro appunto il ministro ha un canale youtube infatti ho twittato dicendo questa cosa si sapeva tra l'altro che lui aveva delle apprezzamenti verso queste posizioni gli movimenti anti OGM si si ma in generale no lei è anti anti occidente anti anti antieconomia si antieconomia anti qualsiasi cosa che per carità è legittimo però quando ti basi su dei dati falsi io ho diritto di dire che stai dicendo delle panzane e il ministro l'aveva invitata a un convegno che lui aveva organizzato in Sudafrica se non ho capito male insegnava o insegna ancora o adesso forse non più comunque in università in Sudafrica e lui l'elogiava anni fa quindi è una cosa abbastanza nota ecco insomma ma è stata voglio dire chiamata anche in varie fondazioni in Italia se cerchi su internet Vandana Shiva è stata chiamata da anche fondazioni culturali italiane tuttora a fare conferenze quindi ha raggiunto una certa massa critica diciamo ecco per quello ti facevo questa domanda perché a tal proposito visto che è una figura di questo tipo che tu dici essere così problematica controversa eccetera sì è una delle tante una delle tante per carità ma adesso parliamo di questa visto che è entrata nel mondo italiano politico venga chiamata dalla politica stessa a parlare di certe questioni quindi di fatto partiamo da una base sbagliata perché non ti fa paura che sia proprio la stessa politica a dover mettere le mani su questioni delicate come cosa puoi promuovere su Instagram ma l'ha sempre fatto l'ha sempre fatto la politica italiana ha sempre all'occorrenza sfruttato certi personaggi sto parlando di di casi scientifici ma sono sicuro che ne esistono anche in altri campi se voleva dimostrare qualche cosa o lisciare il pelo a qualcuno o ottenere qualche cosa ma guarda Stamina appunto il discorso di Stamina cioè non c'era nulla di scientificamente sensato in quell'intruglio di cose che eppure il mini non mi ricordo che ministro qual era il ministro della sanità all'epoca ha fatto fare prima della Lorenzin si ha fatto fare una sperimentazione ad hoc ancora prima non so se ti ricordi il metodo di Bella si 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 mi ricordo anche lì è intervenuta la politica c'era quel ministro che era di alleanza nazionale non so come si chiama l'aziale non mi ricordo vabbè comunque questi personaggi se vado ancora indietro c'è sempre stato un uso della da parte della politica di alcuni personaggi che a volte si mettono al di fuori della comunità scientifica ad uso e consumo per ottenere per ottenere certe cose allora l'idea che l'idea di base è che se c'è del consenso che si può ottenere chiamo anche qualcuno che non è non è non è diciamo rappresentata della comunità scientifica e questa è una cosa che vandana shiva quanto consenso ti porta per fare cosa ormai sei sei in una posizione di potere fuori dalla campagna elettorale guarda che guarda che vandana dopo quel tweet ho ricevuto un sacco di risposte dicendo ma cosa ne sai tu lei è una stimata scienziata no no è nel giro nel giro anti anti-OGM pro biologico pro tutte queste cose qua è molto nota è molto è molto è molto nota poi è chiaro che cioè allora è anche abbastanza complicato parlare di queste cose qua perché lei ha fatto una battaglia contro le multinazionali io non sono qui a difendere le multinazionali non me ne frega niente ci mancherebbe altro però è ovvio che nel momento in cui tu fai e quindi alcune delle sue battaglie immagino localmente siano state anche sensate basate su alcune cose quindi si è costruita un seguito enorme e molte persone la conoscono per quel perché ha lottato no ah per delle battaglie specifiche per delle battaglie specifiche delle battaglie che quindi se io è chiaro che se io gli vado a dire ma guarda che quella roba ha detto una fesseria che poi si è ripetuta cioè poi ne ha dette tante se tu cerchi c'è credo non mi ricordo se di Wired o di qualche altra rivista che ha fatto l'elenco ma il New Yorker ha fatto un articolo perché è nota anche negli Stati Uniti era stata invitata spesso a fare conferenze in alcune università per cui il New Yorker stesso ha scritto un articolo in cui elencava le cavolate che ha detto però appunto come lei quindi è molto nota per cui chiamarla ti fa ottenere consenso rispetto a quel tipo di persona che la segue queste cose orientano il tuo voto il tuo e anche degli altri scienziati il mio voto in che senso? il tuo voto nel senso di ci sono alcuni partiti che trovi che siano più vicini a questo tipo di atteggiamento o che si muovono meglio con più nonchalance? sì decisamente è una cosa comune alla comunità scientifica? cioè a me devo dire di no la maggior parte così degli amici colleghi conoscenti con cui chiacchiero e con cui sono abbastanza in confidenza per arrivare anche a parlare di politica di altre cose li ascriverei genericamente alla sinistra varia vario pinta poi non ti so dire se sono di un tipo o di un altro e così via però non so loro se diciamo vanno a fare fino a che punto vanno a fare le pulci per per una per una cosa di questo genere oppure se dicono vabbè insomma però la missione globale del partito passiamo sopra questa cosa qua questo sicuramente non so io ci tengo molto io ci tengo molto intanto io non parlo quasi mai di politica sì anche se tu cerchi online si capisce abbastanza bene però bisogna cercare bisogna cercare si scopre che io ho parlato a un congresso radicale oh wow di un bel po' di anni fa sì 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 ho fatto ho partecipato a una scuola estiva dell'associazione Luca Coscioni ah davvero parlando di biotecnologie sì sì quindi insomma diciamo faccio parte di quel non sono mai stato iscritto a nessun partito però diciamo i temi soprattutto delle libertà individuali delle libertà economiche delle libertà in generale mi stanno molto a cuore ed è chiaro che inquinare i discorsi infatti sono contento che in questi giorni per esempio c'è stata la sentenza di Marco Cappato io non parlo mai dei miei video perché parlo di bel carbonato no ma potrei anche fare non è il giusto luogo tra l'altro se uno legge il mio blog lì spesso si capisce insomma che quali sono i miei orientamenti così politici in generale o per cui inquinare ecco per esempio quel tipo di area una volta si poteva identificare magari col partito radicale poi ha subito tutta una serie di anche lì di decisioni di cose ci sono persone che sono andate in altri posti comunque devo dire che ha un'attenzione più elevata di altre alla diciamo alla qualità dei dati scientifici su cui basare certe discussioni ed è ovvio perché se devi parlare di fine vita se devi parlare di biotecnologie lo devi fare parte dai dati non puoi inventarti delle balle che invece in altri partiti abbondano quindi sì quel tipo di poi non è l'unico ovviamente non è l'unico perché ognuno di noi quando va a votare non c'è mai nessuno che ti rappresenta al 100% quindi devi sempre fare così una contrattazione con te stesso e decidere se quel tema per te conta di più di quell'altro non è l'unico però di sicuro è importante è importante e tra l'altro appunto io appunto sono stati gli unici che parlavano di OGM per la ricerca in agricoltura in Italia per la ricerca pubblica quando non se ne poteva parlare perché appena uno diceva qualcosa sugli OGM ti tacciavano ah tu sei un servo delle multinazionali dice ma io sto parlando di una ricerca pubblica fatta dell'università pubblica in Italia cosa me ne frega di parlare però il frame era quello in parte si è terminato ma era anche colpa di tutti la politica tutti i ministri dell'agricoltura cioè fosse c'era il ministro di Berlusconi poi c'era quello della Lega poi è arrivato quello del del PDS o del PD o di come si è chiamato poi è cambiato poi è tornato in Grellini non è cambiato niente cioè da quel punto di vista l'approccio era sempre quello e invece in alcune nicchie politiche c'è un'attenzione poi ovviamente sono nicchie politiche questo sono consapevole per cui le nicchie fanno le nicchie fanno i grilli parlanti ok perfetto grazie mille per la chiacchiera è stata super interessante grazie a te e grazie per il mirto ce l'abbiamo fatta ma quanto quanto ho parlato grazie mille per la chiacchiera grazie mille per la chiacchiera